Mi sono preso anche le patatine Beh mi raccomando, fate bravi che siamo in live Ehi Sono bella Mamma mia, aspetta vediamo se si sente Tutto quanto, vediamo se ci stanno i nostri amici Mamma dionna Se siete mio audi Mio audi caspio Mamma mia, adesso parlo tutto quanto in russo Ciao belli Sì, mamma mia, oggi non so parlare Sono a livello di infi, infi Cosa mi ha attaccato? La lebra? Molto probabile Aspettiamo un po' di Gientona, aspettiamo anche che Tornidea dalla pappa Perché sì, oggi siamo tutti E fragolina, ciao fragolina Mia figlia, mamma mia Aspettiamo C'è la signora Stro Aspettiamo un po' di persone Intanto vorrei che vi mostraste Tutti quanti qua vicino a me nell'angolino Voglio stare, venite Nell'angolins L'angolino della vergogna Venite, venite È possibile che non abbiamo della terra Eeeh L'angolino della vergogna Questo qua è l'angolino della vergogna Ok, aspettiamo un po' di persone Ciao Alfa Ciao Zeyad Mamma mia, guarda quante persone Bellissima, bellissima Sono vestita un po' male Spero non vi disturbi alla vista Ecco Intanto facciamo le solite prove Mi si sente bene? Bla 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 Mi si sente bene? Bla bla Datemi informazioni chat Come no? Cosa dici Zeyad? Sì Ciao Senex Senex Xianti L'ho lieto in tutto quanto in ruo Come ti senti? Vieni qua, infine Venudati un attimo Adesso è bello Adesso arriva anche Mega C'è Marchino Bello Marco È mio figlio Animation Ita Ciao Animation Si sente a posto Buonissimo, buonissimo Stavo aspettando Massi Che come al solito Si fa il cavo Il cavo Il cavo Il cavo Il cavo Il cavo Vieni dai Bellissima Stavo incantando Perché ho trovato un pezzo per incantare Che bellissima che abbiamo le scarpine uguali Siamo matchati Tra poco arriva anche Mega Mega è un attimino Ciao Franci Che belli Mannaggia a Massi Dennis Ma è il mio modellatore preferito Aspetta un attimino Mega Che è un attimino in ritardo Mega fatti sentire Perfetto Mega No ero mutato Perché non volevo fare casino Ok E oggi Oggi amici Siamo tutti e cinque Tutti quanti cinque del team Perché tra poco arriva anche idea Che non sarà nel server con noi Perché ha un computer un po' di Di sterco Ecco E quindi semplicemente modererà la chat Per le cose che io non leggo Le leggerà lei qua in vocale con noi Siete contenti? Dunque è Sinox Grazie Scusa Va bene Scusa Non mi bullizzare Ciao Dennis Ciao 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 Bellissimo Dennis Allora Perché hai messo sto blocco di Cos'è? Carote Davvero? Bellissimo Posso mangiarla? Come funziona? Perché hai fatto un blocco di carote? Non l'ho fatto Un computer patata Esatto Esatto Hello It's nice to meet you Or can you tell me where I am? Perché ti dimentichi che ho l'oggetto che mi droppa cosa a caso? Oh che bello fratello Buttalo Cioè ti riempi sempre il meteo di schifezze No perché mi da anche cose buone Ma cosa ti da? Tipo Eh Quello è utilissimo E lo sai che non avrei mai fatto Oppure Sì Oppure tipo La mia intera armatura Belli Che bello Però non dai niente Sei un po' ingordo Te l'ho mai detto? Non è vero Ci sono tante tutte le cose Non me lo ricordo mica Aspetta perché lo scorso mercolino Non hai fatto live Eh stavo un po' male amici Tutto Tutto qua Stavo un po' male Ci sta ecco Non lo faccio più scusate Non sarò mai più male Ve lo prometto Carote gnamo scherzo La fragolina piace alle carote mi sa Ti dicevo Ti vedo tutta l'armatura che hai attualmente Non ho nessuna armatura Nell'inventario Nell'inventario non ho nessuna armatura Ma come? Dove hai visto la armatura che ti regalano? Solo io vedo la live laggare Eh amici lagga la live? Ah questa qua Ma quella del pesce Ma è brutta Vuoi vedere come un pesce? Buona Le portate che stai bene Sì sì sto bellissima Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Cosa vuoi? No cosa vuoi? Dio Ora sono curiosa Cosa vuoi? Basta Ma perché ti fai regalare cose da caso? Perché potrebbero darci cose forti Sì ma quante volte è successo che c'è stata una roba forte? Mi ha dato la nether hoe La nether hoe Sì Comunque almeno dieci volte Mamma mia Ma non è poco Ciao Antonella Fare GTRP con i tuoi amici Oh mamma Oddio Non lo so Non pens Cioè non lo fa per me ecco Non puzza neanche te lo regga Ciao amico grazie per i mille iscritti Grazie Sì che mi regge mega Sei un pirla Riesce ad entrare amico no? Sì davvero? Riesce ad entrare Sì davvero un attimo che devo mettermi Grazie per Grazie per i cosi dei mille iscritti Mamma mia abbiamo raggiunto i mille iscritti in pochissimo tempo Tra poco registriamo lo speciale dei mille iscritti Dove ho chiesto a voi amicimi di farci un sacco di domande sul mio Instagram No vabbè c'è dottor Cat Ma vabbè Mille iscritti in quanto speciale per i 500k Eh cat Guarda se Guarda Con calma dai C'è Domi ieri che mi fa Ah sì sì tra un mese fai la monetizzazione Cioè Allora magari ecco però non GTA un po' volgare E io l'ho cometato tutto Farei Sally Face Bello Sally Face Purtroppo l'ho già giocato Quindi non avrei le stesse reazioni Però potrei farlo giocare a uno dei miei amici Tipo Massi Io non l'ho mai giocato Vedi vedi Potremmo fare la reazione di Massi A Sally Face Ci sta Piano piano Dai zitto non ho mai chiesto il tuo parere Chiedimi scusa Chiedimi scusa Subito Ma stai bene? No La mia vita è insulsa Inutile Faccio schifo Non dire queste cose live Cos'è Animation Lemi non si è sentita bene Perciò non ho fatto l'idea per quelle tessive L'abbiamo già detto Tommaso Grazie Grazie per averlo ribadito Comunque Adesso sto meglio Non vi preoccupate Sì comunque Sally Face Potremmo portarlo Appunto registrato da Massi Tipo Ah porto il mio amico Cose E domani Oggi appunto Registreremo lo speciale Dei 1000 iscritti Dove voi ci avete fatto Delle bellissime domande Quindi Mi raccomando Se avete una domanda Da farci Inerente appunto Al mio gruppo di amici Trovate sul mio Instagram La storia La storia Insomma Una storia Dove potrete farci Tutte quante le domande Che volete Correte subito a farlo Se non l'avete ancora fatto E il mio Instagram Trovate il link In descrizione Della live Mamma mia Stiamo aspettando mega Prima di cominciare a fare Le cose salienti Anche perché Come vi ricordate La scorsa live Oddio C'è il mio amore Ciao Flair Sapete che il cilese Andassare il cappello verde Vuol dire avere la corona Ciao amore Ciao Ciao amore Salutate Flair Chat Che bello Flair Stupendo Allora ci saranno anche i draghetti Che Massi ha dopato il suo In modo molto illegale Senza Senza il mio consenso E mi sono molto arrabbiata Chiedimi scusa Non ho fatto nulla Chiedimi scusa Via qui Tieni Chiedimi scusa No Devi chiedermi scusa Va bene Apprezzo anche le ovette Se abbiamo un sacco di polli Mio dio Ah abbiamo un sacco di polli E abbiamo Mi hai nato un pollo Mi hai nato Sì ho detto Eccolo il pollo Guarda è nato Che carino Guarda il pollino Che carino Ah le corna Donna dislessica No Ho letto male Massi chiedi scusa a Leme Hai capito? Ha detto la chat Devi chiedermi scusa Per forza Ha detto la chat Oh Madonna lo spado Ti goffio di botte Devi chiedermi scusa Massi Chiedimi scusa Prima Che ho preso Chiedimi scusa Ah scusa Ecco Bene Tutto a posto amici abbiamo fatto la pace Io direi Rocomassi Ecco l'hai tornata DIA Chat Salutate DIA Sentitela che bella DIA non giocherà con noi Ma starà a moderare la chat Essendo che io sono molto scema Certe volte E non leggo Non è che modero la chat Modero i toni delle persone Gli iscritti Sì vabbè comunque Insomma Se io mi perdo Se ad esempio mi perdo Una vostra domanda O altro E ci sarà DIA Intanto correte su Instagram A fare le domande ragazzi Dai su che voglio ritrovare Con un sacco di domande Le avete già fatte tantissime Ma non mancano mai Dai su 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 Abbiamo già 23 Che era Franci mi ha chiesto Se poteva farmi un obbligo Io ho detto di sì Ma non me l'ha fatta Hai capito? Se c'è uno migliore di iscritti Direi domani 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 A vero dai Denis ti saluta DIA Allora amici Innanzitutto Venite qua Massi E come si chiama l'altro Quell'altro Quello nero Dai Vieni bene Ah sì Ok Ok Ma è mio bambino Ci voglio strabile Allora Ho delle Uova di Gigi Voi direte Che caspita è Gigi Gigi è Avete presente Nell'ice and fire C'è una mod Cioè L'ice and fire è una mod Insomma E Nella mod cos'è? Fire live Dove monti il video Speciale Ma i T-Rex Non mi fanno danno Quindi non so come Ma lei mi deve mettermi il mod Comunque Mamma mia Quanto caghi il pisello Vieni qua dai Lo so che ti piace Potrei metterti in time out Tieni lei Sei Siamo della truice Allora Vedete Ho 7 uova di Gigi Facciamo spawnare il Gigi Pronti? Vediamo Vediamo se nasce Vedete 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 Purtroppo Mega non è ancora entrato Perché è un mongolino Mongolino Ti muovi Non mi fa entrare Non è con la mia Non deve andare Ma scusa Ti ho dato tutte le cose giuste da fare Eh sì Io sono connesso anche alla rete di Redmi Solamente che non mi fa entrare A quanto pare Hai aspettato Ma se aiutalo Aiutalo in chat privata Così non Non rompe le palle Ma che ne so Come sei entrato tu Ma aspetta Aspetta Mega Mega Scusate un attimo chat Che dobbiamo risolvere Mega Aspetta facciamo una roba Ma cos'è questo Ma è bellissimo Ma no Ma è un cagno Aspetta Amici amici del tubo Ehm Ma massi intrattenili con un paletto Intanto muto Muto i nostri microfi Va bene Microfi Aspetta Ok Torniamo subito Aspetta manca un paletto Wait Wait Faccio il paletto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Siamo smutati, siamo smutati. Allora, scusate, c'è Mega che sta avendo i tecnici problemi. Allora, ciao Raffa, come state? Dai su, intrattenetevi l'un l'altro. Abbiamo le uova di Gigi, siamo pronti a sponare gli Gigi? Dove vas? Vai, spononi tu, sono sopra. Sei moruto, vieni subito qua, immediatamente. No, va bene, sponiamo lì sopra che sono carini, sono carini. Qua sopra c'è più spazio, più bello, un po' buio in realtà. Abbiamo delle torce, sì. Allora, bam e bam. Pronti? Vai, vai, vai. Il primo uovo di Gigi. Ti chiami Gigi, sì, sì, è superante. Pronti? Pam. Secondo, secondo. Ma è solo il primo, vieni, ce la puoi fare, ce la puoi fare. Terzo. Vabbè, davvero, è terzo, eh. Oh, quarto, quinto. Guarda. Eh, Gigi, c'è un'altra. Tu hai Gigi, sì, tu hai Gigi, Gigi. Ma no, mi stanno attaccando, ma sì. Aspetta, aspetta, Gigi, Gessa, perché questa è femmina, Roberta. Fermo, Gigi, 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 cosa fai? Ok. Ah, niente. Dov'è la Gigi, Gessa? Gigi, Gessa? No, andatevi giù. Eccola, eccola. Vieni qua, Gigi, Gessa, fermati. Ok, ok, eccoli qua. Allora. L'Evitus è swag la più swag. Numero uno, Lemi, dave, mamma mia, smettetela di lusingarmi così. Ma guarda, è marino. Eh, Antonella si ha chiesto se nella serie SCP tornerà... Chi? Quella personcina. Yask. Yask, eh no, Yask è... Raga, Yask è andato da solo, non posso dirgli niente, scusatemi. Ciao, Dark! Allora, vi spiego, guardate, abbiamo... Aspetta, ve li metto vicini, vicini. Abbiamo due Gigi! Ecco l'altro Gigi. Allora, vi spiego. Quando sono gialli, sono maschietti. Quando sono bianchi, sono femmini. Abbiamo un Gigi, una Gigi, Gessa. Siete contenti? Ah, che carini, sono bellissimi! Gigi e Gigi, Gessa! Che carini, sono bellissimi. Sono stupendi, sono stupendi. Dagli un bacino, Infi, dagli un bacino. Raffa chiede cosa stai facendo. Ehi! Chi è stato chiedendo cosa? Ah, Raffa! Raffa, abbiamo spawnato dei Gigi, guarda! Questi qua non si chiamano Cocatrice, si chiamano Gigi. Che belli. Oh, si danno un bacino, comelli! Sono bellissimi! Si danno un bacino, guardali. Che carini, che carini. Oh, prosto, sono stracarini. Ti fanno le congratulazioni per i mille iscritti. Grazie mille, grazie mille, Francesco! Che sarei che sono i Gigi? Sei troppo cute con quella voce. Io? Sono cute, eh? Guarda che bella è Questa è mia No in realtà no Questo qua è Twimfy Questo qua è mio Ok È bellissimo il mio Gigi Perché a me piace quello lì maschietto Bellissimo il mio Gigi Stupendo Lei mi ha detto che finisci la voce a fine live Succede molto spesso onestamente Quello lì è il mio cane che Sentitelo Che carino Sbubi ma in che senso Ma in alterra sono due maschi Sbubi Ma in alterra sono due maschi Eh Due maschi Ah i Gigi penso I Gigi Ah i Gigi In che senso due maschi C'è un Gigi sulla terra C'è un Gigi sulla terra Che è questo qua Questo qua piccolino giallo Ciao Black Io mi metto penso La prendono negli horror Ma come ti permetti Stai dicendo che sono brutta Ah amici ma sapete che qua c'è il muro degli iscritti Che se Muro Se siete iscritti e volete essere su questo muro potete dire Guarda abbiamo Dark Diego Dennis Quoricino perché è il mio bambino 2C Animation Ita Prima vincitrice Salvatore Roccia Fragolina L'altra mia bimba Lorenzo Zeyad Che è in fondo perché è antipatico Certe volte Zeyad Io ti voglio bene Zeyad Perché voglio bene a tutti quanti Però basta Oh ai ai Vabbè Ehm Non ho capito Ehi Lemi Ciao Dark Ma tu non ci sei Dark Ah sì che ci sei Altra mia bambina Ehm Ciao mamma Oh no c'è Ness Ciao Ness Questo cambio di tono Molto Mega Come ti senti al riguardo Cosa devo sentire Niente niente Vabbè così Certo 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 Cosa devo scriverci Guarda c'ho i cartelli Cosa devo scrivere Voglio anche essere nel muro Però mi metti tra parentesi Swag Certo ti scrivo Rafa Swag Ti metterò esattamente qua Rafa Eh non riesco a scrivere Sono ok E così Metto no E no E no E coes Ah ah Swag 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 Raga non riesco a scrivere Ok Perché c'ho la tastiera Che è spenta Quindi Tutti i razzissimi Mi confronti No Ness No no Che voglio essere nel muro Va bene Mettiamo Ness Anche lei in fondo Perché è antipatica Ness No Eh bisogna essere onesti Mi dispiace Trovo ormai sei nel muro Ness Mi dispiace Io ci sto nel muro Sicuro No No Non sei nel muro Non è nel muro Cosa facciamo amici Lo mettiamo Franci nel muro Secondo me no eh Che ne pensate Black nel muro Black Non è un fan Black è un amico No vabbè Cosa Ho detto qualcosa di razzista No allora Fa un cubo Black Basta Siamo litigati per sempre Allora Non riesco a Sono un po' Ok Ma Ma rega Sono ok Dai Ok Seno Seno Sen Che dice Io non ci sono Certo subito ti ci metto Senox Ma chi ha messo la tartaruga qua? Ti metto qua Sen Senox giusto? Ovvio che ci sono anch'io Ovvio Ma chi cosa? È Sbubi Ha chiesto se c'è Dea Ma non è Sbubi È Dark È un'altra Sì c'è Dea C'è Dea C'è scritto Sbubi Salutate Dea Salutate Dea Poi chi altro Vole essere messo? Lemmi come faccio a inviare La domanda su Instagram Non lo so come si fa Sono negato Allora Tommaso Se ti Allora Aspetta Fatemelo spiegare con calma Perché sono un po' Scemotta Nella descrizione di questa live Ci sta Il link del mio Instagram Andate sul mio Instagram E la mia seconda storia È Io che vi chiedo di farmi delle domande Per lo speciale dei 1000 iscritti Quindi andate a farle Se non l'avete ancora fatte Riempitevi di domande Su quello che volete Ah ma Mega Edea Stavano assieme Ah ma Quante volte fai colazione Al giorno Domande Capito Ecco Ma la mia Oshi Oshi è andata amici È scappata Nè Dragolina non preoccuparti So che magari Può essere Allora aspetta Potrei dare una notizia un po' Dolorosa Ma Oshi Non farà più video con noi Amici E Non voglio Dire troppe cose È un po' Drama la situazione Ok Non voglio dire troppe cose E Onestamente Voglio così Per entrambe Ok I rapporti si sono chiusi Normalmente E Dark Vabbè Sta facendo Il drama Va bene Dark Ciao 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 Moxie Stiamo avendo un attimino Un momento drama Tu ci sei sul muro Moxie Sai che non lo so Hmm Ho saputo cosa è successo Ecco In ess In ess Sa Non sei sul muro Moxie Perché Questa cosa Mi chiedi scusa Per favore Non ti devi mai più permettere Di non stare sul muro Sai Ti salverò Moxie Mamma mia 21 aspect Ciao a tutti quanti Benvenuti Benvenuti Rimanete con noi Che io vi voglio bene Altrimenti piango Anch'io voglio il cuoricino Va bene Rafa Mettiti il cuoricino Dove sei Oh Ma come ti permetti No Aspetta amici Aspetta Dobbiamo andarlo a punire Scusa Subito Ti metto subito Tommaso Intanto Fatemi picchiare Massi Che ha deciso Che vuole Vuole fights Scusa Ma non ti picchiano I miei gigi Ma qua Si guardano Che belli Che belli Sono bellissimi Ma chi I balloni In fide i gigi Cosa stai facendo Scendi immediatamente Ti metto in punizione No Cammino sull'aria Cosa Com'è possibile Cosa sto vedendo Non me lo aspettavo Aspetta Vieni subito qua Devi farti punire Ci sono sul muro No Francesco Ti ci metti subito Dove sei Vieni qua Ho detto È un ordine Non si fa Devi chiedermi Mastrota Ti ha detto La mia youtuber preferita Sono offesa Già Mastrota Sì Grazie ancora Per gli auguri Massi More like Messia Voi Sto bene Moxie Allora Che devo mettere Su muro Dovevo mettere Raffa Che aveva chiesto Il quericino Subito Raffa Immediatamente Assolutamente Raffa Quericino Facile camminare Sull'acqua Ma vogliamo parlare Di camminare Sull'aria Vedi Franci dice Che anche lui Manca sul muro O lei Franci Franci Non ti ci ho messo Davvero Wow Non ti ci ho messo Ti metto qua Perché Sei antipatico Poi Chi è che aveva chiesto A Tommaso Tommaso Ma certo Ti metto Ti metto qua No Qua Tommaso Metto Tommaso Gaming Comunque lei Ma io non so Quanto Sei antipatico Perché Aspetta Devo litigare Con fagi Sei antipatico Perché Quando ci sono Tutte quante Le cose Se ci pieto Seri tipo Eh no Ma non dovrebbe essere Così No È così Per quello Deci Toglio Ok Oh forse è entrato Omega L'odio dell'aria Massi Allora Lei mi idea Aspetta Una ship Questa L'imidea Adesso ti ci metto Tommaso 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 Ti metto qua Francesco Totti Come ti chiami Francesco Totti Abbasciano Giusto Abbasciano Sì 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 Mi piace come la gente Si dosse da solo È molto divertente Ashtag Lea La mia per Lea Sia una ship Canon Oh ma che cosa Sta succedendo qua Io non stavo mica Leggendo la chat Cosa state creando Mostri Mostri Smettetela Smettetela Subito Allora L'unica dea sono io Sentila Sentila come si vanta Sono molto pignola Per gli Scipi Dai ci sta ci sta Si vede che sei studiato Allora amici Intanto che aspettiamo che Mega Torni Si spera Insomma Abbiamo qua i nostri bellissimi Droghetti e una tartaruga Ciao Andrea Ciao benvenuto Andrea Hashtag lemiladea Oh grazie Non bustate le lega è pericoloso La nostra dea Della morte giusto appunto Cosa faremo con allegro Demi demi Non si può dire Nel mondo di youtube E non sta a me dirlo dark Ti chiedo per favore di non crearne un dramma E soprattutto Oshy Oshy è parola bannata adesso Non è che è una parola bannata Però Cioè Parola bannata Stiamo in termini italiani Con allegro Mastro ci faremo E ve no Allegro Mastro No no deve fare rima con Gro È grumo Lo so Lo sono io Oshy dice la nward No no Non si fa Non si fa Comunque E per Grazie Demi Per il muro Ma di nulla Ma voi dovete stare qui Infatti se qualcuno non è segnato Amici ditelo Sto parlando cos'era quel muro con i nomi dei fan Eh Flavio è il muro dei fan Vuoi esserci anche tu? Devi dire una parola magica Devi dire 33 trentini Entrano a 30 Tutti e trenti Tutti e trenti Non lo so dire anche tu Non ce la fai delmeno te Allora Io che sono in giù Eh ma perché È tutto amore mio per te Fran Ce lo giuro Mio miglior amico Mi manca il corazon per mamma lemi Però mamma lemi Mi manca il corazon Ah è vero scusa Fragolina Oggi non riesco a leggere ragazzi Sono un po' stanchina Eh fra Fragolina Ecco perché ci sono io oggi Picina Ecco Bellissima Ok Ho il cartellino Eh cosa facciamo adesso? Aspettiamo che arrivi Mega Si spera Mega come stai messo? Vale Respiro Respiro Sì Come stai messo in termini di Ah logo nel cerco per fare la tua live Bellissima Mia amata lemi Spero respiro Va bene Dea ricorda di andare a dormire Ah ricordale Dea ricordale di andare a dormire Devo ricordarlo io a te Tranquilla Ma se io cambio il nome con la Enward Come mi scrivi sul muro? Eh Punto 1 Dennis ti banna Punto 2 Non lo so Bravo Oh mio dio Sinox ha trovato il Ha trovato il Il trucco Disintegro Fa rima con Allegro Mamma mia Che uomo Sai chi disintegro? Chi disintegri Vieni 10 10 10 10 Dove sei? Ti sfondo di botte Sai? Chiedimi scusa Chiedimi scusa So che pensavi a me Scusa Eh ma mi hai fatto malissimo Aia Aia mi hai fatto malissimo Io sono fidanzata a 2 anni e mezzo Lo sapete Comunque so guardere in me Comunque so fare Ma con luce Pulce Non lo so ragazzi Reintegro anche Brava Brava Darkina Sì perché Sì perché Non riposa Ma come ti permetti Ma a me non piacciono i gatti No Non vi disiscrivete Scusate Cos'ho Cos'ho cliccato Che fatto Cos'ho cliccato Cosa hai fatto Shield banner Ho cliccato Vabbè non mi interessa Non mi odiate Non mi odiate Spostami e sposami Madonna Dea Eccola Ciao Bentornata Ciao 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 Allora aspettate Non è che non mi piacciono i gatti Dipende dai gatti Io dico sempre Guarda i gatti mi piacciono Se non sono miei Ok Se vado a casa di qualcuno Il gatto Io ci dormo con il gatto Cioè mi metto lì nella cuccia con lui Se il gatto è mio Non mi piace Perché i gatti Se sono due sono antipatici Vero amici Ma scusate Non si vede Non si vede la chat In live No in live No si vede soltanto Nel Ah ma mi dispiace Aspetta Sistema tutto subito Intanto metto qua Samu Due tre Quanti numeri Metto Samu e basta Corricino ti metto Non so che tu sia Però mi sei simpatico Comunque Io ricordo ancora Quando lei mi è venuta a casa mia E si è Buttata sul mio gattino No io mi sono buttata sul porcelino d'India Ragazzi Io amo Io amo I roditori Io ho quattro conigli Ne avevo dieci E purtroppo Tre sono morti Però gli altri li abbiamo regalati Mamma mia Io ho quattro conigli adesso In giardino che sono una mamma Che si chiama Kindred E i suoi tre piccolini Che si chiamano Ash Bebe E Zack Bellissimi Bellissimi Tre maschietti Hashtag Meno sfruttamento De class D Non ti permettere Sai Ti sto guardando Nelle palle degli occhi A te Andrea Fratantoni Chiedimi immediatamente Scusa I class D sono Da Usare Ne sono rimasti Solo quattro Quattro cosa Che cosa Ah di conigli Ah eh sì Ma sì ma non perché Sono morti tutti Cioè Uno è morto Probabilmente di vecchiaia Uno è morto Poverino Perché era il più piccolino Quindi più bullizzato E quindi Cioè In dieci conigli Si rubano tutti quanti Il cibo no E quello lì Il più piccolino Era il più bullizzato Insomma Vedo una chiesca L'episodio dice Vado nel prossimo episodio Ragazzi Che esce domani Mi raccomando Fatevi trovare in premiere Ci sarò anch'io Io sono sempre Nelle premiere Della mia serie scp Ci divertiremo Un sacco Assolutamente Ho visto un gatto Lui E tu sei bello Spoiler Volete uno spoiler No dai Possibile una cosa Non family friendly Possibilmente ero Rafa Poi se non riesci A trattenerti È un altro conto Insomma I nostri moderatori Prenderanno provvedimenti Ma chi sei tu Io sono fidanzata A due anni e mezzo Cosa non capisci Ho una roba assurda Questi qua Eh Il delirio è la premiera Eh sì Franci Esce proprio Chi pensi tu Ehm Il fatto che vuoi spoiler Qualcosa Mi mette ansia dark Non mi bannate Non mi bannate Eh Rafa Eh Rafa Eh Rafa E beh Attenzione Qua siamo tutti quanti Molto simpatici Drann e Dea Dea non è simpatica Perché io sono speciale Io sono la dea Io sono la dea dell'universo Scusa regina suprema Guarda quanto Mi piace un sacco Che mi chiamate regina suprema E altre cose Continuate Mamma mia Mega non riesce ad entrare davvero Mega Da quanto pare Perché no Antonella no Non tornerà più Jasker Aiaia Menate menate Perfetto Ciao Malika Ciao Malika Vuoi farti aggiungere Sul muro degli iscritti Sei iscritta Spero per te di sì Perché altrimenti Viene idea a casa tua Immagina se tutte queste persone Che hai iscritto Sul muro In realtà non sono iscritte Ma solo vengono a commentare Guarda Se fosse così Probabilmente Mi butto Basta Ho deciso Eh Sono deciso ragazzi Voi avete deciso Di non iscrivervi Molto bene Molto bene Voi avete Con conciliato La mia fine Ma la Bancraft La Bancraft ritornerà Stiamo cercando Guarda quanto Sono belli Mangiate tutto Amore della mamma Belli che ci mangiate Siete un po' pigri Iscritti tutti siamo Eh va bene Allora non mi butto E Amici ci stanno Dei brutti cefi sul tetto Che mi sono perso E niente di special animation Stiamo aspettando Che Mega arrivi Non arriverà A quanto pare La mia domanda è Lemi Oh Sono fidanzata Come la mettiamo Sì Come le mettiamo Le porte All'ingresso Che Che Le porte All'ingresso Di casa Tornerà Yash Chi è Yash Yash No Yash Non Yash Antonella Già è la Tipo settima volta Che chiede la stessa cosa Già abbiamo risposto Finiscila Grazie Ma che cattiva Dea Mamma mia Fai la prova Allora aspetta L'abbiamo già risposto Quindi Sì vabbè Lo rispondo meglio Allora Yash Perché se ne è andato amici, lui ha deciso di andarsene, sarebbe anche qua in live se non se ne fosse andato lui per conto suo, quindi per favore, basta fare questa domanda, è successa la stessa identica, conosci un po' più drama, insomma è successa la stessa identica cosa, sono persone che semplicemente non vogliono partecipare ai miei video, fa niente, raga davvero basta, fa niente. No vabbè, ma c'è Brossole, mio marito, ciao Sole, come stai? Mio Dio, mio Brossole che oggi lavoravo vicino a casa sua. No povera Dea, no no anche te d'avamo bullizzata, non è vero, è bella Dea, non è a livello di Infi, Infi è... Allora, allora, non toccare Infi, ok? Dedicami una canzone, ok. Chi sei Raffa? Ok. Raffa è bello, è un po' monello, è snello, è come un martello, viva i fiori, diventiamo suori. Boom, tieni, tutto è per te, come ti senti a riguardo. I tuoi video sono belli, grazie mille Malika. No, ma ho fatto nascere un altro Gigi. Infi per Dea c'è sempre stata. La Infea, no? È la Denfi. Infea. Le mie mille iscritti. Sì, ho mille iscritti! Dea, da quando è gelosa Denfi mi sono perso, non ti sei perso niente, semplicemente Dea è molto... Mi sono bagnata. Dea è molto... Cosa? 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 No, è che... No, è che... No, è che... No, è che... No, è che se l'ho buttata in un cubo. Sì, sì, ha visto, ha visto, infatti, infatti molto presto arriverà lo speciale dei mille iscritti. Per chi non l'avesse seguito prima, sul mio Instagram c'è una storia, ok? La seconda storia del mio Instagram dove potete farci delle domande. Le domande che voi ci farete verranno messe in un video bellissimo, speciale dei mille iscritti. Cosa stai facendo, Infi? Ho fatto nascere un altro Gigi. Gigi è siccio! Bellissimo! Prendilo, prendilo. Prendi il Gigi, prendi il Gigi, prendi il Gigi, prendi il Gigi, prendi il Gigi! RAP! Gigi! Fermo, hai preso il Gigi, bravissimo, portalo di sopra insieme agli altri geni. Hashtag doppio senso, no, no, Sinox, no, 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 io sono... Farei anche... Assolutamente sì, infatti venerdì uscirà un bellissimo video. Questa settimana, ragazzi, quattro video e una live. Cioè, dovete darmi un bacino, cioè, me lo merito. Ma se ti capo gli occhi, eh? Con calma, nel senso... Approvo, però anche più piano. Ah, se fai male a Lemmy, animation mi difende, che cucciolo, grazie mille. Avete preso il luogo di Pasqua? Guarda, purtroppo no, non ho preso il luogo di Pasqua, però, eh, a mio fortale hanno regalato un luogo di Pasqua di... Siamo Gigi Gattinsky! I Gigi Gatti! Che bello, guardate. Lei è il Gigi, sembra non il mio papagallo. Gagapallo, hai detto? Il mio gagapallo. Dai, raccomando, dimmi il giochino swag. Ah, eh, amici, scusate, c'è ancora il mio cane, spero non vi dà fastidio. Sappiate che sul mio Discord, intanto, nella descrizione della live ci sta anche il mio Discord. Entrate tutti quanti, perché vi vengono date le notizie lì. Insomma, sul mio Discord verrà creata una categoria dove voi, voi, amici, potrete darmi le idee per i video. E se mi piaceranno, ovviamente, le porterò assolutamente. Quindi, tra poco verrà creata la categoria, un po' di calma, ecco, tra due giorni massimo, tipo. Fessere via l'ancora no per il momento, diciamo che è un po' presto. Mangiare o muore anche più cuore, deve aiutarti a migliorare il tuo cuore, qui, nella battura. Non ho capito. Mangio, mangio. Prova a spottare, devi riconoscere i tuoi amici tra i bot. In che senso? Non ho capito. Ragazzi, ho indovinato per tutti, le mie massi in fede. Certo, vai, 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 vai. Mi ha detto fatemi sapere. C'è anche Mega, in realtà. Sì, c'è anche Mega, però... Lemi, se vuoi che iniziare a fare qualcosa, più che altro io, fra poco, credo di dover andare a cucinare. No. Picchiate massi, picchiate massi. Dite massi non mangiare in chat. Non mangiare. Forse adesso dovrebbe vedersi la chat. Sì, si vede, si vede, si gode, ok. Scusate, me lo ero dimenticata. Ciao Skellix, ciao Skellix, ciao Skellix, benvenuta, benvenuta o benvenuta, non lo so. Siamo molto simpatica, grazie mille, Malika. Mega è un boss, un figo, Mega, è un figo, un figo. No, 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 il Gigino, Gigino no, Gigino! Ok, hai preso. Mettilo qua e fallo sedere premendoci destro e partiamo l'avventura, che ne pensate? Sì, aspetta. Qual è il SCP che ti fa più impressione? Ah, più impressione? Guarda, non lo so. Forse... Impressione. C'è un SCP, non so il numero, ditemelo qua nei commenti, qua nella chat live se lo conoscete. C'è un SCP che è praticamente un'applicazione, che tipo ti... Da questa applicazione esce tipo un mostro che ti stalkera in giro, non so come... Non so il numero. È bello Infi, sì, Infi è un figo. Guarda lì. Sì, sì, è stupendo l'Infi. Guarda che belle, che belle, che cuccioli! Ho ucciso un pollo per sbaglio! No, è un mostro, Infi. Come ti permetti. È tipo un cervo... Un cervo scheletrico. Mi sembra più un cane, tipo, non ne sono sicura. Dimmi, Darkina. No. Mi vado a dormire alle 4 di mattina, molte volte anche alle 7, guarda. Perché io edito per voi, amici da casa! Quindi vedete di lasciare un like, per favore. Non voglio sembrarvi disperata, però, cioè, capito? Cioè, voi siete il mio viewer, adesso vi faccio il discorso come il youtuber del 2016. Voi siete il mio carburante per andare avanti, senza i vostri like, senza i vostri commenti, senza il supporto che mi state dando in questo periodo. Grazie davvero un sacco. Non avrei la voglia, capito? Cioè, perché... Dico, ah, perché sto facendo i video per nessuno, no? Invece ci siete voi che, appunto, mi illuminate la giornata. Grazie mille, continuate così. Vi voglio bene. Volevi fare una serie di like per gli iscritti? Assolutamente sì. Ce ne sarà uno ufficiale. Ora come ora, 4 dei miei iscritti più fedeli stanno costruendo un server di fan per i fan, ok? A tema il mio canale YouTube. Appena saranno finiti, preparatemi cosa stai... Perché stai spammando Skellix? Dimmi tutto. Non spammare per fuori. E mi riavvio il PC, arrivo subito. Sì, sì. Un torneo in Giapponia, davvero Dark, complimenti. Anch'io posso aiutare. Raffa, chiedi a Dark, Fragolina e Dennis. Loro sono i tre capitani, insomma. Malo, classe Keter, altrimenti un canale è terribile che ti stalker. Esatto, quello lì, Franci. Mia bellissima regina, lei mi speciale come le rose. Mamma mia, ma la smetti di rimorchiarmi, ma spero che tu sia maggiorelle, guarda. Fragolina, posso usare, dai, conversate tra di voi per appunto questo progetto. Che io lo reputo un progetto fantastico, non lo sto moderando ultimamente, quindi mi raccomando, Fragolina, guardami nelle palle degli occhi. Tra poco entro, a fine live, fatti trovare il server aperto che devo giudicarti. Ehm, quanto, quando, eh, kunado, sono acerbo, sono verde, quando sono matura, sono gialla, farima con lana, punto, eh, scp, 1471, non, non so. Ah, si chiamano, ok. Sì, no, se l'indovinello che ha detto che voleva fare a tutti. Eh, ma io sono un scema con questi indovinelli. Quando sono acerbo, sono verde, quando sono maturo, sono giallo, farima con lana. Ehm, banana. A fan bagno. Banana, banana. Sono andato a cercarlo, mi sono presa un infarto, raga. Banana, 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 banana. E c'è in parole di banane? Banana. No, perché ho visto le sceglie. Abbiamo i draghi, abbiamo i draghi. Zitannatti, guarda, abbiamo i draghetti, guarda che belli, che belli. Dovremmo andare a cercare i prossimi, solo che stiamo un attimo aspettando Mega. Scusate se questa live è appunto, sì, è un pochino arrellante, solo che Mega sta avendo dei problemi. Spero che non... Eh, sono caduto in un buco alla fine, ragazzi. Spero che non vi... Non mi dia fastidio, ecco, aspettarlo un attimino. Intanto parliamo tra di noi e non c'è nessun problema. A questo punto vi ripetisco sul mio Instagram. Sul mio Instagram, link in descrizione della live, ci sta una storia in... Una storia, ok? Le storie, dai, conoscete le storie di Instagram, ecco. Dove potrete fare delle domande a me e dei miei amici? Potrete fare delle domande a me, a Infi... Infipalle, dove sei, Infipalle? Infipalle! Infi perdere lì, Infipalle, potrete fare delle domande a me e dei miei amici? Ah, Massi, Massimiliano, Massimiliano Dragnilo. A me, a me, oh, mi ha rubato... Sì, come ti senti, a ricordo? Mi... E vieni, no, scusa, mi dispiace, riprenditelo, scusa. Comunque, a Mega, che adesso in un attimo a F cacca, e a Deuccia. Deuccia? Ciao! Che carina! So essere anche carina, non vi preoccupate. Sì, bene, no. Da 1 a 100 quanto ti sei spaventata. Raga, io mi spavento molto facilmente, non sembra, ma veramente me la faccio sotto subito. Scusate allora, dovrei partecipare anche Franci, ma a partecipare a che cosa, non ho capito? Al vostro progetto, raga, lo decidete voi, non ve lo dico io se volete dei collaboratori. È il vostro progetto. Io sono contentissima che voi vi state mettendo in gioco per fare una cosia, per me, anzi, vi ringrazio da morire, però è un vostro progetto, quindi voi decidete i partecipanti del vostro progetto. Mi hanno chiesto di andare a cercare le 096 di SCP per vedere... Vabbè, ma raga, ma l'abbiamo visto. L'abbiamo visto, ok, va bene. Ah, certo. No, quello di prima mi ha fatto tanto spaventare per questo. Aspetta, muovo un attimo il microfono, spero di non disturbare. Ecco qua. Dea ti adoro, ha detto Anessa. Lo so, mamma, lo so. Come mamma? Dea? No, tu sei la mia mommie, lei è mia. Sarà meglio. Quello ne parliamo dopo. È bene così. Mega, Mega, Mega non è ancora qui, niente. Fraulina. Manco solo io, effettivamente, a fare la spiegazione della mia lore, quindi... Sì, sì, manca solo a mettere la lore di idea. Poi, forse, forse, forse molto presto entrerà un nuovo personaggio a far parte. Non vi spoilerò niente, dai. La mamma che ha cresciuto tanti cuccioli. Eh, sì, proprio io, le mie paperelle siete. Ma... Io li amo, io li amo i Gigi. Io vivrei solo di Gigi. Mangiate un po' di pappa, Gigi, dai. Cresciuti? Eh, no, solo i miei, il tuo è ancora piccio. Perché ce l'hai piccolo. Cosa, è tutto bene? No. Eh, no, piccolo, scherzavo, vieni qua. Voi avete tutto, avete l'iPhone 50, ma io ti tengo il paparello. No, c'è un attorno in diamanto, vai. Aspetta, aspetta, Malika, Malika, ti spiego. Questa qua è una serie incentrata sui draghi. Noi non ci interessa molto la netherite o altro. Noi interessa avere tutti quanti i draghi di diverso colore. Capito? Cioè, armatura in diamante o calmo? C'ho quattro diamanti. Lemi, questa te la dico io. Hai un nome o posso chiamarti Mia? Eh, Raffa, dai, mamma mia. Ma cosa sono sti Ritz, ragazzi? Dai, subiamo un attimino di contenio. Cioè, a prezzo, eh, però... Lemi, sei per caso dei soldi perché sei tutto quello che ho bisogno, di cui ho bisogno, però a prezzo comunque Ritz. Questa è stata una domanda di quello che ha detto... Guarda che stai continuando a Ritzarti. Sei per caso dei soldi perché sei tutto ciò di cui ho bisogno. L'ho appena letto, Dea. Mi fa morire da ridere. Comunque sì, ho fatto una serie roleplay da ninja. Eh, potrebbe esserci. Intanto, ragazzi, abbiamo ben... Favole contare, scusa. Una, due, tre, quattro, cinque... Abbiamo già cinque serie roleplay ideate tutte quante da me che usciranno su questo canale. Ovviamente, con calma, appena ne finisce una, ne comincia un'altra. E non c'è una serie ninja tra queste, però si potrebbe pensare, ecco, bisogna vedere. Mega sarebbe troppo felice di cosa? Ah, dalla serie ninja. Per la serie ninja. Eh, mega, mega è un po' un weeb, eh? Un po'? Eh, niente. Noi tre più faranci, eh. Fare cosa? Beh, una serie roleplay di FNAF sarebbe interessante. Avrei qualche ideuccia minuscolissima, ma niente di troppo... Cioè, capito, non è niente di troppo elaborato. Io di solito quando elaboro le idee per... Ma chiedimi, scusa immediatamente, ma chi sei? Ma chiedimi immediatamente, guarda, schifezza. Adesso, capito, allora se volete altri draghi, sapere arancione, trovere i draghi sono i rossi e i verdi. Allora, quello verde lo voglio io, perché è bello. Massi, non mangiare, capito, Massi, non devi mangiare. E in realtà non è neanche per me la cena che cucino. Eh, no. Franci, smettila di chiedermi di cercare 096. L'abbiamo già fatto, non ti preoccupare, sono tranquilla su quello. Ea, con più calma, Ea, per favore. Sacrilegio per chi picchia la figlia di Kemera. La figlia di Kemera? Tu sei la figlia di Kemera, secondo Franci. Pekà. Boh. Possiamo dormire, così non abbiamo... Oh, mamma mia, Massi, ti picchio, se ne andiamo a dormire. Vieni, vieni, infipalle. Io mi prendo il letto quello verde. Eh, io non voglio dormire, c'è una Massi, che schifo. Vai dall'altro lato. Vai dall'altro, no, alzati subito, infipalle. Massi, vieni dall'altro lato. Vai su quello rosa, perfetto. Oh, scusate, eh. Perfetto. Povero Massi. Eh, cos'hai detto? Cos'hai detto? Ho detto, ho detto fancubo. Ah, fancubo, sarò meglio. Per niente, povero Massi, per niente. Massi, brutto cefo, brutto cefo. Che ha detto? Mi censurano, non posso parlare, mi censurate. Eh, certo, non vedi che siamo YouTube Kids qui? Chiedi scusa. Quindi stai dando ragione a te. No, non so, no, no, questo non è YouTube Kids, smettete. No, aspetta. Oh, potete essere onesti un attimino. YouTube Kids è totalmente un'altra roba. Qua io sto cercando di essere simpatica e family friendly, così che se mai vengo monetizzata, mi monetizzano, insomma. Ciao, guys, dove c'è Lofi? E c'è Lofi, stava facendo i cavoli suoi, guys. Non fa parte del mio canale. Cioè, capretta gott. Ciao, capretta gott, che ha fatto meee. Sono brava? C'è Fragolina che mi fa la faccia arrabbiata. No. Fa bene, fa bene. Faccia arrabbiata, no, faccia arrabbiata a Fragolina, no. Amici, se siete iscritti fedeli, se vi sentite iscritti fedeli, ditemelo che verrete messi sul muro. Appena io non vi vedo una live, vi tolgo, perché, cioè, non siete fedeli, scusate, come funziona. Dovete essere fedeli, io sono fedele a voi, voi siete fedeli a me. Oh, ca... Le mie usavano gente. Ah, capretta gott ha scritto meeeh. Tutti incazzati con massi, perfetto. Ehi, Dea? Dea? No, guarda, guarda la chat, guarda la chat. Cosa, che parole hai usato? Sono tutti arrabbiatissimi. Eh, sarà meglio. Incavolato. Sono tutti stravolti dalla stupidità di... Oh, boxy. Tanto danno tutti ragione a me. Perfetto. Guarda che a me si è buggy shot alla live. Come te buggy shot? Mi si è buggy shot alla live, amici. Raffa, sto sprofondando nei tuoi occhi, Lemmy. Mamma mia, ma guarda che occhi cubettosi, so che devi essere iper sexy, però per favore dai. Allora, facciamo una roba. Tanto, Megast è bene? Megast è bene, ma Megast non è in vocale, mi sa. Come non è in vocale? Eh, no. Vabbè, appena entrare. Vabbè, perché ha riavviato, ha riavviato. Appena, appena... Non so se lo puoi spostare qui. Siamo in recco. No, devi spostarlo tu, Lemmy. Eh, ok. Allora, appena lo vedi, te ha dimmelo. Non sono maggiore, ma non conta l'età. Cioè... Non puoi non fare questi versi, mi hai rotto le orecchie. Scusa, scusa, scusa. Ma tutto, ho fatto un incubo dove ho intrappolato in un cubo, era un incubo. Mamma mia, Francesco, mamma mia. Ti tolgo dal muro, basta. Ho deciso. Dove sei? Basta, siamo litigati. No, dai, non ti tolgo. Se l'hai accertato. Eh, sto per... Eh, no, dai, non lo faccio. Eh, sto per di nuovo... Eh, dai, la ti tengo, dai. Ecco perché non sto mai con le cuffie. State dicendo che sono assurdante? Non volete più essere miei amici? Pescio, pesciolino, il re del mare è... Sch... 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 Schetti... Non ho capito. Schettin... Non conosco. Schettino? Eh. Non si dice, cioè, daga, non andiamo in questi dettagli. Ma che cosa si è piccata? Non sono... Schettino è quel... Quello della costa Concordia. Esatto. Che cos'è? La costa Concordia. La costa? Era praticamente un... Vabbè, un bordello che era successo, che praticamente è sta nave che è caduta in mare. Guarda, guarda, infi, guarda, infi, cavolatissimo, cosa stai facendo, infi? Infi palle! Non lo so! Infi palle! Infi palle, no, è moruto! Ma cosa hai fatto, infi palle? Avevo bisogno di cibo. Ma dillo alla mamma, ti ho dato uno stack di pane. Ah. Ah, eri te. Eh. E vabbè. Posso essere sul cartello? No, puoi avere un cartello sul muro se vuoi. Vuoi essere un cartello? È un'ambizione un po' strana. Eh, guarda, 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 è grosso il Drago di Massa, mamma mia. Eh, è un po' doppio senso, effettivamente, ci ho appena pensato. Non so presciuto. Ah, veramente è grosso. L'emima tra poco finisce la live. No. Perché no? È appena iniziata. È appena cominciata, amici, non vi preoccupate. Ho sudato freddo. Ho sudato freddo. Mamma mia, addirittura. È azzurrissimo. È bello, è blu. È beleo. Beleo. Quello lì è azzurro. Questo è azzurro. Questo qua è beleo. Dovete dire beleo. Voglio essere un cartello sul muro. Va bene, dai. Basta che mi diciate. Dovete fare, dovete fare un... Dovete farmi ridere, aspetta. Dovete farmi ridere e se vi fate ridere sarete sul muro. Dai, impegnatevi. Allora, intanto faccio gli altri cartellozzi. Nel caso mi facciate ridere. Molto difficile, molto difficile. Io non sono... Sono una persona molto, molto brutta. Vediamo. Vado a cucinare. Buon cucinamento. Tanto Iffi, parla di più, sei un po' silenzioso. Non lo so, che cosa devo dire. Dì qualcosa, insulta i fan, non lo so. Insulta. Pessima strategia di Marti, insultare i fan. Sì, ma il sangue di drago, dall'altra volta, ce l'avevi te. Aspetta che mi rimetto le cuffie che non ho capito. Cosa? Ti ha detto? Mi dicevi, Infi? Il sangue di drago, ce l'avevi te? Ah sì? Ah sì? Posso una? Eh? Posso uno. Di che tipo? Eh, quello di fuoco. Dai, su, dovete farmi ridere! Perché a Natale puoi, no? Guys, e chi è l'altro? Capretta! Ah, grazie. A Natale, ti rimattugna il povero perché a Natale puoi. Senti, un attimo. Un negozio di rotoli di cartiglione chiude, perché? Perché andò a rotoli. Va bene, ti ci metto, va bene, dai. Ti senti, ti tengo salvato guys bandierina Italy. Eh? Perché c'hai... Travolina, lo so che essere mod è un lavoro molto duro, ecco, perché ti sono venuta a dare una mano. Vabbè. Dovo andare, scusa. Va bene, tranquilla. Con la I. Metti... No, 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 non si fa così, Raffa. Non ti dice. Molto cattivo, molto cattivo, gaga. Non ti dice. Raffa, molto cattivo. Sono maschio. Eh sì, bandierina Italy, perché hai la bandiera italiana. Bandierina Italy. Lemis, dovete cresciuto, perché dovete fare quattro stacche di pollo. Sì, lo so, lo so, Malika. E stiamo un attimo aspettando un nostro amico, anche se non sta... Vediamo. È arrivato. È arrivato? Dai. Tesoro, tutto bene? Mega? Papino? Ehi! Chiamare così Mega, sai? È mio papino. È anche il mio papo. Vedi? Vedi? Ma sei l'unico... Oh, è cresciuto! È cresciuto il Cici! Vado a parlare Mega, aspetta. Scusa, Mega, tutto a posto? No. Come? Ciccessa, ciccessa, ciccessa! Ciccessa, 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 ciccessa! Tutto a posto, ciccessa? Sei matta, sei una matta, ciccessa. È una matta, è una matta. Tutto bene, figliolo. È una matta questa, è una roba assurda. Torniamo dentro casa. Sei una pazzurda, ciccessa. Oh, mio Dio. Hai in questo caso aggiornato qualcosa, Lemmi? Eeeh... No. Abbiamo aggiornato qualcosa, rega? Infine. No. Non è che tu hai aggiornato Essentials per sbaglio? Non è. Ah, sì, con te c'era un aggiornamento di Essentials che non dovevi fare. Cosa è successo, te ha? Più che altro mi sono fatto anche ripassare il modpack. Eh, no, vabbè, stavo continuando a parlare di... Di? Di cose, vabbè, dopo ne parliamo. No, no, dimmi adesso così so se... Eh, no, è live, ne parliamo dopo. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. Minchia, un po' agitato sto Gigi. Aiuto, aiuto. Mi sono fatto anche ripassare il modpack da massi, però apro, non funziona. È strano. Ma quando tu provi ad entrare, cosa ti dice? Connection reset. Cioè, mi dice che l'FML è incompatibile con il server moddato. La modlist non è compatibile. Compatibile. Strano. No, c'è cielo! C'è cielo! Ciao, cielo! Come stai? C'è lo panna. Che hai da raccontare, cielo panna? Vedi che mi guardo una gara di... Se mi dice che ti guardi una gara di 24 ore, bah, fai quel cavolo che vuoi, tesoro. C'è lo fì, ciao, cielo. C'è lo fanna, mamma mia, proprio lui, eh? C'è lo fanna. Guarda quanti pollazzi, guarda quanti Gigi c'è l'ho. Bellissimi, sono... Guarda, perché lui è Gigi, perché di solito i maschietti sono Gigi, e lei è una gigessa. O rosaria, dipende dalla situazione, ecco. Ah, c'è un altro! C'è anche un'altra rosaria. Bellissima, belle, due rosarie. Eh, quella è tua. Questo è mio. Quale è tua? Dagli un nome, dagli un nome. Aspetta. Da dove si sta pomiciando con il mio Gigi? Eh, no, adesso pomiciare con te. Giuditta, ma chiami tutto quanto Giuditta, tu è una roba assurda, eh? Va bene, che sì. Ma mi piace, me l'ha dato che merda. Allora, battuta. Al funerio della moglie la sua amica gli dice Tu merito tresce... Vatteni a dormire in pace. Non l'ho capita. Non fai niente? Io l'ho capitata, ma non fa ridere. Sto insomma... Ho capito, Malika! Stavo aspettando Mega! Mega è colpa mia! Mega che puzza. Mega perché puzzi? Eh, papà, parla più forte. Mega, quanto sei Swag da 1 a 10? Sono solamente lontano. Eh, sì, più vicino. Sono in depressione. Più vicino agli uomini. No, 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 no. Anche tu. Tutti depressi, tutti depressi. Non parliamo di depressione, è fuori. Eh, faccio 4 anni, mi sono svegliato anche al 5. Vabbè, dai, fancubo mega. Andiamo in figlio e te da soli. Dai! Siamo una cosa sola. Dai, vai! Dove sei? Sono fuori. Scemo. Fuori. No, non ti vedo. Scemo fuori. Fuori scemo. Ah, ok. Scemo fuori, perfetto. Detto questo, andiamo all'Aventures, amici. Dai, su, su. Sono lei. Gigi in fuga, nuovo film al cinema. Per forza. Allora, dobbiamo andare a cercare i draghi, quello lì sotto terra. Infine, perché io voglio un drago mio. Perché ce la vede tutti quanti? Non ce l'ho solo io. Non ce l'ho solo io. Non ce l'ho. No, no. Mega è ancora duro duro. Mega è sempre duro duro, amici. Non si fa. Duro duro. Mega è il più duro duro di tutti, ragazzi. È una scherzo. Allora, è la fine, la fine. Ah, che male. Fai il bubo. Prendiamo le osa che saranno più dragons. Allora, ho delle torcia. Hai una torcia di numero, proprio. Ecco, grazie mille. Ecco. Allora, dammela, dammela, dammela. Ok, va bene. Come metto l'illuminazione di navi, amici? Lo sapete mica? Video settings? Non lo so. Non me lo ricordo più. Non lo trovo. Non sono mica capace. Eh, nemmeno io, sai. Vabbè, useremo quella torcia per sempre. Dammi la torcia, ci penso io. Non ti devi preoccupare mai. Hai mentito. Dov'è? Nel tuo inventario. Mi stai mentendo? Non c'è? No! Hai mentito? Oh, non ce l'ho davvero? Ah, ma è lì. È lì. Lì. Ah. Ecco, perfetto. Tutto a posto. La riutilizzeremo così che ci illuminiamo la stradz. Ecco, bellissimo, bellissimo. Ah, qua è pieno, qua è pieno. Buona, buona. Dammi tutto, dammi tutto. Allora. Però, siamo un po' scemi. Perché... Dea, tieni la giornata sulla giornata che non la sto leggendo, perché io sto giocando di... No, io stavo cercando di capire la battuta di capretta, ma non l'ho capita. Però... Fai, fai da... Tu parla, letteralmente, quello che scrive... Sarei che sono sempre belli, ma tranne il verde, perché ha lui il verde, ma c'è un po' di celeste. Ok. Chiedimi scusi. Il verde è bello per Lemi. Certo, perché io sono... Non c'è niente qua, infine, è colpa tua. Ah, chi mi ha tirato? Eh, non è colpa via, non lo sapevo. No, c'è Deuna, che schifo. Dove? Aspetta. No, non è Deuna. Perché Deuna mi chiama a stracocco, lì è più... La femmina di Davide Giovanni. Guarda lì. Lì c'è una Davide Giovanessa. Una Davida Giovanna. No, Davide! Davide, cosa fai? Davide Giovanni è una roba assurda. Celofy, sei collaboratore di Game Heroes. Stanno parlando con Celofy. Ma, raga, ma... Va bene. Ma questa non è la live di Celofy. Eh, traditemi. Come vi permettete? No, va bene, traditemi, traditemi. A me va bene, eh. No, vabbè. Sì, sì. Noi offesissimi. Non piangerò per notti intere, sappiadorò. Ma non ha una palla! E' una palla! E' una palla! E' una palla, guardano, guardano. Non riesco a dire. E' una palla, infipalle. Quando si dice infipalle. Battuta. Amici piangono al funerale dell'amico cieco. Prete, non preoccupati, vedrà la luce del paradiso. Eh, sì, sì. Almeno quella vedrà. Almeno quella. Che devo fare? Visto che ci sono firmo di autografe, ma è poco... Palla infi. Mr. Modestina. E' una palla infi. Palla infi. Pallee. Ti sei dedicato lo slag a casa. Va bene, dai. Mi prendo il cartello di Raffa, me lo porto in giro, che sei contento. Ai 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 ai. Che mi raccontate, amici da casa? Dai. Su, intrattenete. Una palla. Intrattenete voi. Eh, vabbè. Questo è quello. Questa sarà una live un po' moscia, purtroppo, perché stiamo avendo problemi. Vabbè, amen, dai. Poi siamo in due. Mannaggia al clero. Eh, vabbè. Uno deve cucinare a questi orari. Perché deve cucinare a questi orari? Oh, ma come ti permetti? Chi mi ha picchiato? Ma cosa? Ma come ti permetti? Suka. Aia, mi ha fatto male il fido 6. Lemi ti chiedono... Dove stai te? Ti ho persa. Lemi ti chiedono, farai mai un comics live? Cos'è un comics live? Live? Penso che andrai al comics e farai la live, mentre sei al comics. Oh, mamma mia. Stiamo parlando un po'... Un po' troppo del futuro. Tra 72 anni. Sì, quando sarò famosa, ragazzi. Sempre con il mal di testa. Condividete questa live, così almeno diventa più famosa e sicuramente andrà al comics e farà le live. Giusto, condividete che sono bella, in fondo, no? Guardate... Eh, strucchete quel montone. Sono bella? Sono bella? Sono bella? Iscrivetevi, lasciate like, condividete, fate tutto. Mi raccomando. È bellissimo, Levi. Apprezzo, apprezzo. Mi sono già perso. Mio figlio! Infipalle! Ma c'è questo coso che mi picchia. Infipalle, aiutami, infipalle. Il potere! Eh, sei tipisciuto. Il potere del palle. Dove è? Dove è? Ah! Dammi il tuo trident, non me l'ha dato, niente. Io no, c'è, lo fa troppo presto 1500 iscritti face reveal. No, 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 calmi, calmi, calmi. Perché l'avevo promesso ai mille, ma abbiamo raggiunto i mille. Dove essere ai mille qua. Sì, ho capito. Ho capito, tesoro, ma l'abbiamo raggiunto troppo in fretta. Non vuol dire niente, anche i dieci troppo arrivano. Eh, niente. E che i dieci mila, sei scemo, sei calmo. Mi raccomando, lo speciale del milione dobbiamo registrarlo stasera, perché sicuramente domani ci arriviamo. Domani, domani arriva il milione, ragazze. Oh, potrebbe essere, non si sa mai, sai? Sì, milione domani. Sì, 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 sì. Domani, assolutamente. Mi raccomando, condividete i video, mettete like, iscrivetevi, così almeno arriviamo domani. Io, sposto sì, sono panisa, mi sponpa risa, mi intanto picchio bassi, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Quando collab con Lion? Domani. Anche quello. Ragazzi, tutto domani, tutto domani. Tutto domani, domani è un giorno impegnativo. Sei impegnato domani? Eh, sì. Ma non muore, è immortale! Poi dopo domani, invece, farà il video con MrBeast. Bella. Ma ragazzi, è mortale? Guarda che è mortale. C'è dell'ora mia... È sempre dopo domani. Oh, alleluia del prete Smuja. Tiene questo fieno, dai. World record un milione in un giorno. Assolutamente. No, l'ora è surrektato. Ha detto Cellophane che hai già fatto il video con Lion. È vero, abbiamo già fatto il video di una cosa, però, vabbè, zitti, regà, non spoilerare. Che video, cosa mi sono... Zucca. Zucca. Lei mi entra la Big Vanilla. Domani, tutto domani, ragazzi. Tutto. Tutto. È venticola la mia battuta. Io ero in casa, ma il mio uccellino è verde, nero. L'ho preso sulla mano per farlo la doccia. E mi scappa dalla finestra, ma lui mi ha fatto lo finto. Malika! Malika! Ciao, capretta. Ciao, bellissima. Bellissimo. Non riesco a connettermi. La mia... Proc ex... Proc ex... Proc ex... Proc ex... Proc ex... Va bene. Invite e invitiamo Meghito. Dov'è? Guarda, c'è anche Fragolina qua. Dov'è? Ecco la Fragolina. Vuoi entrare... C'è anche Celo. Celo, vuoi entrare in live? A casissimo, proprio. Ciao, Salvatore Boccia. Benvenuto. Ce lo vuoi entrare in live a casissimo? Tanto questa qua... Su ca... Tanto ormai stai qui, quindi... Scusiamo a casa? Cosa? Cosa è successo? Evy? Cosa? What? Quanti si è permesso di uscire? Che mi scusa? Allora... Eh... Domani c'è pure... Domani c'è pure... Ma te lo dico di le mie infiniti. No? Certo. No, no. Due volte, due volte. Quello no. Domani due volte. Quello no. Non approvo. Che è successo? Gli minuti che finiscono la roba ci sono. Ma può essere che non abbiamo dei blocchi per costruire, ragazzi? Ma può essere che non ti sposi il nostro figlio. Va bene, allora io mi sposo a Mega. No, no, Mega no. Eh... Oh, carina, no, 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 Mega no. L'hai scelto tu, mi dispiace. Va bene. Va bene, va bene su questa cosa, che a me divertono. Solo a te divertono, sì. Ci fate i gacha live. Oh, regà, quando escono i gacha live sulle mie live, potrò ritenermi famosa. Assolutamente. No, allora, io avrei una cosa da dire a tutta la chat, a tutti gli iscritti. Perché io non ho ancora una fan art e invece tutti gli altri sì? Eh, perché non fate le fan art, Adea? Perfino Massimo ha avuto una fan art e io no. Io mi sento profondamente offesa. Vieni qui, di Rosauro. Per adesso fate dei gacha live. Le mie animali domestici, sì, ho quattro coniglietti, che sono la mamma con i suoi tre cucciolini. Si chiamano Kindred, Bebe, Zack e Ash. E poi ho un cane grandissimo, è di razza Dogo Argentino. E si chiama Aaron. È molto bello, sì. Let me cook, dice Blue. Vai, cook a tutto, Blue. Cook a tutto. Non riesco ad entrare, mi chieda dove sto i siti. Non riesco, non neanche le siste. Quanto tu mi vedi, zapapeta, papette, papette. Come che magari dopo la live mi mandi il modpack. Hanno detto che hanno già fatto un gacha. Dove, dove? Fa vedere, fa vedere. Ma voglio quelli belli io, eh? Non le immagini. Niente, fan art per te. Come ti senti, Adea? Offesissima. piango vado nella mia cameretta lo so Flavio c'è un mio amico che si chiama Loren poi se entra in live lo salutiamo tutti quanti in massa che ne vorrebbe tantissimo uno un maincoon perché hanno tolto il commento? chi è che ha tolto il commento? non lo so c'era il commento a cui ha risposto adesso l'ami che è stato eliminato no fragolina hai fatto qualcosa fragolina stai calmo no no malica non si fa quello non si fa no no non si fa non si fa perché io voglio bene anche se è un po' cosa c'è entro io? niente sei bellissimo vieni qua guarda lì domani live con SP giochi è mio figlio ragazzi mi voglio stare bene vado a uccidere un altro dinosauro nooo niente fanart per voi è firmato guys ma smettila di eliminare i commenti a caso Dea non è un commento a caso no ma ma no no aspetta Dea io ti aspetta adesso non litighiamo in live per favore ti aspetta il moderatore modera bene non togliere quello che vuoi tu a caso no non stavamo togliendo a caso sto togliendo soltanto quelli buoni tanto per favore solo che Dea gli ha scritto cioè sei volte tipo sta roba vabbè ma sì lascia fare che bella persona che sono ti lascio la live aperta mentre vado a prendermi la pizza mamma mia mio marito blu ragazzi salutate tutti quanti blu non l'avete ancora salutato mi arrabbio eh volete litigare con me guarda che sono molto brava a litigare vogliamo litigare ragazzi si salutate blu immediatamente l'emic aerobrine è quello è brutto è un aerobrine un po' brutto un po' un po' storpiato insomma sa perché gli americani perdono Summer Crash le altre mamma mia animation no 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 ecco salvatore salvatore ecco salvatore invece lo devi mutare ogni volta che parla divertiti Dea basta fare così perché che succede eh no salvatore entra in surta a caso cioè lo conosciamo dai si goda e io no non ho fatto nulla fragolina sei bellissima sei bellissima guarda che bella fronte che ho ti piace è arrivata mega è arrivata mega in chat no vabbè salutate tutti quanti mega in chat sento che un fallito non riesce a no scherzo no poverino cucciolo ma venga in vocale almeno Raffa non spammare sì sono qui sono qui con quale voce ce lo stai dicendo mamma mia venga cerca di rizzare le nostre le nostre punzelle in live non ho che sono minorenni ma sì è un problema infimi ti risuvo è un problema non ho capito che cazzo no aiuto non devi dire quella parola chiedi scusa no scusa scusa adesso ti mettiamo a ruogo aspetta tiriamo su massi massi buttiamo buttiamo nella lava non si dice stai esplodendo non capisco stai spesso eh lo sto vedendo tutti i scatti niente ti ho buttato a terra perché sono cattiva ah ah non mi frega niente vedate dobbiamo io mi fidavo di te dobbiamo uccidere infipalle che è molto cattivo vai a farti il bagno con l'axolotl questa è la tua condizione togliti lei mi vuole litigare con te guys mamma mia litighiamo vai fai il bagno con l'axolotl colore cacca ecco come ti senti impuzzato sarà meglio per te regolina stai tranquilla non preoccupa allora per litigare allora guys di cosa litighiamo secondo me quanti anni hai innanzitutto quanti anni hai perché non vorrei dire cose brutte ahahah 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 ovvero sono il l'axolotl tu tu bellissima chi stai rimorchiando fra a me a me a me no sono la grande oh ti voglio mettere meca sai perchè stai ragazzi stai esplodendo un po' sta un po' esplodendo perchè? stai esplodendo no devi chiedermi scusa eh ma sai perché perchè ho attivato essentials perchè me che non riusciva ad entrare dovremmo ciao ciao Flavio ah quindi ora siamo dentro con essentials penso di si ma non ne sono sicura ciao Flavio grazie di essere stato con noi il problema è che non è l'idea comunque ma perché perché hai eliminato il messaggio l'ami eh ciao ciao ma penso che se lo elimini da solo onestamente a te dovrebbe uscire scritto che lo elimino messaggio ritirato ma ok come la va bellissima dai amici se saluto a te mega fate solo mettere moderatore che sicuro è meglio di idea grazie grazie però stai mutando tutti quanti a caso poveri ossiai no non è vero ho mutato solo due persone è giustamente adesso è una si gode mamma mia siamo i 26 spettatori benvenuti a tutti quanti benvenuti benvenuti non abbiamo fatto niente sta live mi dispiace anche un sacco in realtà perché dai cominciamo adesso purtroppo abbiamo problemi tecnici però almeno stiamo chiacchierando con voi cosa stai facendo massimiliano stai mettendo i vetri a casa suca non mutatemi guys non farti mutare allora ciao bentornato sinox non ti sei perso niente stiamo facendo no ma c'è un cagnolino lì no ho messo io perché sei un assassino non ho fatto nulla l'ho trovato raffle si chiamava quello me lo ricordo l'emmy fai l'intro salve popolo di questo nuovo video io sono l'emmy lui è oh you wanna swing from vincendorini sono vincendorini cosa succede no adesso ci danno il copyright perché l'hai cantata troppo bene troppo bene ragazza troppo bene identica quasi no non era la canzone qualcuno hai fatto il bisello di strecato cosa non l'ho capito cosa non l'ho capito c'è che vuole il bisello di strecato no raga non si parla di strade non si fa infine renditi utile vedi ma se ti faccio una mega setta mi sento egocentrica o no beh a me fa piacere non è che mi sento egocentrica vai a prendere il legno di ciliegio ok eh va andato non è che si stanno rimorchiando no no ce l'abbiamo non serve io oh fate i bravi stavo 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 mega cosa stai facendo mega niente stavo moderando intanto parla intanto parla più forte seconda cosa sia dea che mega interagite pure cioè siete comunque in live non vi preoccupate io sto interagendo anzi sto parlando più di lì mega un po' depresso ma quindi mega mi piace non funziona minecraft è tanto giocamata è giusto non prendere a piccolo adesso mi ha scritto poi le risponderò adesso tu che stai guardando online poi ti rispondo e ti spiego tutto quanto anche se già lo dovresti sapere comunque un attimo di lì di lì dove come ti permetti chiedimi scusa rimorchia chi rimorchio rimorchio infi vieni qua no questa è Massi no Massi no no non ti fa eh ma Massi non me la voglio rimorchiare a te smetti di odiarmi no io non ti odio ti voglio bene solo che ho degli standard ecco molto passi assolutamente sto con Flair però no si scherza si scherza amici da casa si scherza Raffa no mega non può non può rimorchiare fragolina già rimorchia troppa gente ma è raga a me che è sposato con me se non l'avete capito e perché mi tradisci che ho 25 figli con me è vero è vero troppi fratelli è vero io so che mi tradisci eppure con uno dei nostri figli no ma che era una battuta non ci siamo non ci siamo io sono profondamente deluso sono più grande di te dice Salvatore chi cosa che quando quando per chi soprattutto cosa ho letto mentre andavo di lì in che senso cosa hai letto ma cosa hai divano ah sì no c'è una cosa di 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 ridete ragazzi in chat no 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 è mi fai una battuta nel dubbio it ciao quepalealeale ciao 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 benvenuti in live posso fare una cosa prima che si risponde non lo so ma imparare l'italiano forse è una delle cose che dovresti fare vieni ma è mia figlia ora fragolina ma io le voglio bene ma tra amici si può dire quello che si vuole posso dire che la sciopini di tutti è la denisilina che cos'è tra denis e fragolina eh sì 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 mi stavo sentendo presa in causa scusate non è che se la gd sei tu eh vabbè finché sei al centro del mondo il lato oscuro di neve ragazzi sono molto più cattiva di no vabbè ce l'ho ce l'ho papà in in coso ce l'ho ce l'ho l'emmo molto oscura ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho vieni vieni sei in live mi senti mi senti ragazzi sono cattivissimo ho fatto un sogno orribile non vi dirò che cosa ho sognato no no adesso lo dici adesso lo dici è quello lì del almeno io mangio non lo fai dai non lo posso raccontare ma sì ma sì cosa fai con fragolina non si può raccontare no non si può raccontare ragazzi no no è black humor a schifo le mie sue sogni ragazzi io i miei sogni sono fantastici una volta ho sognato di sposarmi con mega no vi giuro ve lo giuro non vi sto prendendo in giro ho sognato di sposarmi con mega in un vestito in un abito da sposa fatto di buccia d'arancia c'era un profumo no ve lo giuro c'era un profumo della madonna era bellissimo non solo tu sei capace di fare certe cose no vabbè ho sognato anche di peggio vabbè insomma domanda per fragolina qual è il tuo preferito tra di noi siamo un team da 5 l'emi mega massi togliendo l'emi che è la preferita di tutti ma guarda guarda onestamente onestamente c'era c'è gente che era qui solamente per oshi guarda per me no per massi guarda che bello guarda che bello guarda che bello cosa hai visto che bello no non tornerà Yasker nella serie fa vedere fa vedere quanto ando di fa no Yasker non avete capito Yasker se n'è andato per i cavoli suoi mi dispiace cioè io lo volevo anzi ci sono anche rimasta male quando se n'è andato ma che cosa devo farci ha deciso lui di andarsene cosa devo fare se ne va ragazzi non posso dirgli ah no su carimani ma i limoni abbagliano uff no limonano ma tu sei lime è vero sono lime vabbè dai sono cugini ecco viva i lime uuuu uuuu e mi si continui con questi video entro l'anno prossimo dovremo attenere al scolastico con te la gang è sopra non penso di aver capito ma apprezzo apprezzo noi i limoni ma tutto ciò fragolina ancora non ha detto chi è il suo preferito fragolina non lo so ma ha attaccato a te ah no fragolina fragolina no chiedi scusa fragolina è una bugia ah degli altri miei gusti ma ma si puzza ciao omega ti saluda animation mi sono gelosa ciao ciao mamma mia ciao animation oddio c'è ricky ricky mamma mia devi uscire subito dalla live che lo sai come sono potrei dossarti per sbagliissimo ma anche se è perché il suo cognome e il suo nome sono molto belli insieme grazie francesco grazie francesco a me infie omega vabbè raffa ovvio aspetta mi asca di più dall'autore della pesta antonella smettila per favore salvatore questa è la seconda volta che ti tame auto alla terza sarà per una giornata cosa ha scritto cosa ha scritto continua a spammare cose brutte e basta salvatore mamma mia dimmi tutto raga potete non parlare di yasuke e oshi se ne sono andati punto basta fine non tornano ecco se l'ha detto più in modo incazzato io sono più gentile amici mi volete bene sono bella dai no perché altro è da inizio live non capisco si infatti io non voglio essere cattivo ascoltate ascoltate vi faccio vi faccio un discorso morale perché sono una persona più matura di quel che sembro se delle persone stai zitto un attimo se delle persone se non state bene con delle persone non significa che quelle persone devono rimanere nella vostra vita fine ok conoscici stavo male yasuke stavo male con noi fine non si sforzano le relazioni è andata male punto fine ok per favore non non continuate perché cavolo cioè punto uno ci ricordate a noi delle cose brutte ok punto due è inutile fare dei drammi è successo quel che è successo è normale anzi andiamo avanti ci divertiamo di più impariamo dai nostri errori è buona facciamo meglio di quel che abbiamo fatto prima vuoi fare qualcosa nella live hai ragione ma se infine siamo pronti cosa si no si io non ero no che stavo finendo di buon vabbè io ho dovuto sacrificare giuditta in che senso mi serve pure le sue osse tu hai ucciso il tuo drago no ma l'incao cerca di canare Gigi 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 hai ucciso il tuo Gigi si ragazzi perché l'hai ucciso mi servevano le ossa quelle dei Wheeler si ragazzi hai ucciso oh insultate nel chat hai ucciso hai ucciso il tuo Gigi eh non è così sei scemo no povero Gigi andiamo a vedere se ci stanno altre uova di Gigi no non avrei mai più un Gigi infi sai comunque l'Emi dimmi ho deciso che la casa avrà tre piani va bene e ti chiederai perché perché voglio fare perché ti trogo un'armatura è perché me l'ha droppata l'oggetto ah ok sarà meglio sarà meglio guarda quante uova lo dicevo perché perché volevo fare un tetto dinamico però dalla noia mi sono dimenticato che volevo fare un tetto dinamico e quindi l'ho fatto piatto e quindi adesso sarà il terzo piano mi sa che è troppo uova non riesce a prenderle c'è un marcio uovo aspetta si aspetta un caroto butto caroto ok perfetto amici ho un marcio uovo vediamo se nasce il prossimo giuditto eeeh pollo nero cosa fai perché sei uscito vabbè basta è indipendente vieni intanto butto queste qua vediamo se no vabbè c'è mio figlio Alexio ciao Alexio ali ti hanno chiesto se farai delle mappe horror di minecraft certo assolutamente anzi sarà molto divertente vero tutto ci porto chi è il più cagasotto infie cosa consiglio non bisogna giocare un horror giocare glitch glitch è uno degli horror più divertenti intanto amici venerdì uscirà un bellissimo gioco eeeh volete un piccolo spoiler si immagina infio questo si va bene quello è figo vedi se nasce vedi se nasce vedi se nasce giuditto dai ti chiedono se farai un canale twitch aspetta aspetta vediamo se nasce giuditto 3 2 1 no guarda meglio così onestamente canale twitch assolutamente sì faremo un twitch quando ovviamente raggiungeremo dei numeri più grandi perché ora come ora ce la fan c'è ce la fan c'è ok mettiti in vocale spostalo ok spostalo sto per fare un rottino scusate eccolo eeeh ce l'ho papi ce l'ho papi buonasera ciao ce l'ho fan ciao come va la live molto bene siamo i 24 spects wow gg bene bene per caso ti offrono un t-link anche io lo stai chiedendo animation comunque sì faremo un canale twitch ovviamente ce la farò ma sì ma non lo diavi twitch non è che lo odio so solo che devi crearti prima una fan base e poi fai il twitch perché altrimenti c'è inutile però vada è praticamente così sì ma è praticamente così cioè fai le live con due spects è un po' triste non funziona proprio così twitch non preoccuparti no so che non funziona così ma è meglio se hai già la fan base beh sì quello è ovvio quindi sì niente semplicemente mi creerò la fan base e poi ci sposteremo su twitch cioè non totalmente intendo così e mega pasta le cose che ho passato a te a cielo papi ah giusto no ma hai messo quella testa di giuditta avete aggiunto mods no niente di nuovo niente di nuovo entra solo con il radmin allora a posto c'è già tutto si god ragazzi vogliono i numeri è qui nella descrizione il server disco ragazzi se lo volete anzi se volete ragazzi se volete alla fine della live che secondo me sta già aggiungendo aggiungendo al termine anche perché davvero scusate sta live non abbiamo fatto davvero niente mi dispiace un sacco ma è colpa di mega lo stavo aspettando mega chiedi scusa chiedi scusa a tutti che avete fatto niente abbiamo parlato e basta perché mega cattivo e vabbè anche quello è content comunque si abbiamo chiacchierato abbiamo dato dei chiarimenti su alcune cose ci può stare si 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 una roba oh fate i gaccia no scherzo fate le fan art le fan art adesso mi scarico fatemi le fan art su me infine no non mi dissocio mi dissocio insissimo sperzavo allora aspetta Dea ha questo problema che si scippa con tutti la smetti è divertente è divertente fate me l'emmi fate Dea e Massi 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 fate le scelte di Massi ti piace partecipare con tutti partecipare con Massi no eh l'hai deciso cioè tu che ma se permettimi rifiuto io no ma anche mi rifiuto ma 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 siete due madonna vi odio vi odio entrambe ehi guarda e l'ho visto madonna oggi ti figlio entro la fine di oggi di picchio davvero fate la Megassi piuttosto la Megussi ok quando finirà la finale SCP la finale cosa è la partita iva no finirà quando finirà la serie SCP la serie SCP penso che trarerà all'incirca ancora dieci episodi massimo proprio e arriverà alla fine ma si poco devi sentire tuo fratello e non è mio fratello è quello di idea come si sente mio fratello ditemelo vabbè ma si sentiva poco ecco vai diretta a pegli la bocca definitivamente raga mio fratello ha dei problemi mi dispiace non possiamo farci niente tieni Demi un muro di eh no se non vediamo l'ora di vederle basta che non le fai con Massi si 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 mi serve il codice vanno bene tutti quanti tra tutti quanti tranne Massi mi serve il codice mi serve il codice aspetta ce lo papi ce lo papi ci lo mando si 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 fanart fanart io mi drogo di fanart no forse è una cosa ballata c'è una fanart anch'io fate le fanart che mi piacciono tanto perle si 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 basta ok aspetta no no io ho detto vanno bene tutti con tutti ma non con Massi basta almeno mi risponde anche se sono iscritto come no ma le case che ti rispondo sarei famosa e ricordati di me va bene Rafa il mio miglior amico per sempre palle 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 succa palle succa palle dai succa palle bene dai vai a succare le palle vai 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 aspetta come sei visto compari succare le palle va a volti ma come non sei come avete messo una whitelist su un server non l'ho messa non l'ho messa non l'ho messa come è possibile non ho credo che mi hai detto l'ami che sei bellissima oh mi hai picchiato mi stai picchiando infine scusa scusa vieni qui infine dove sei troccia maledetta certo i miei fan i miei fan numero uno ovviamente denis fragolina 2c dark e anche un pochino francia che se delle volte mi fa nervosire siete nel mio cuoricino i miei bambini siete i miei bambini si 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 non vi scorderò oh mio dio c'è un dinosauro mannaggia a me che ho dato quell'armatura denis è soprattutto denis è il fan proprio che amo con tutta quanta me se sei il mio bambino gli voglio stra bene oh ma non avete visto il video di Deo mi fa piange no non l'ho visto io lo guardo io lo guardo che è successo perché vi picchiate senza che io vi veda ve lo giuro c'è la whitelist non mi fa entrare ma come è possibile scusa ah forse dobbiamo aggiungersi agli amici su essenzial ma siamo già amici come ti permetti invidibicchiarmi non è colpa mia è incontrollabile questa armatura smettila di essere una palla ok ti posso mutare ti posso bloccare boh non hai idea Antonella ha detto per la fine di tutto vi do un'idea tipo l'invidioso che distrugge tutto e crea un nuovo universo dove tu sei una classe D chi è l'invidioso ma se sei un invidioso palese palese dovete sapere che praticamente il canale di youtube è mio e le lm fa le live siccome a me non durano suca Alexio suca ma perché sono confusa ma perché nel chat delle live l'italiano boh l'ho comprata al mercatino ma no ma che cattolo perché in realtà sono tutti ma stai insultando i nostri fans eh no sto dicendo il vero l'hai detto tu ma no ma che schifo ma sì ma bisogna essere sinceri si può comprare bisogna essere sinceri sì ma in privato non in pubblico questa è diffamazione Alex con me ci ha scritto un po' e con me scriveva bene adesso arriva in live prego Dennis comunque tra poco mi sa che ci spostiamo su Coral MC ragazzi facciamo qualche bedwars che ne pensate chat posso venire va bene tanto qua non ci posso entrare che ne pensate chat esatto qua a quanto pare riservo ho già problemi che ne pensate chat ma non esiste un comando per la whitelist forse proffare slash whitelist balli che a lei mi baggio ma la caverna è stata uccisa dal warden beh non è non è una concentrata cosa scusa non c'è non c'è una whitelist prova a disattivare la whitelist ma non c'è una whitelist che cosa devo dire e poi così dice slash whitelist cosa devo fare non esiste il comando eh strani vabbò niente boh non mi è successa una roba del genere vabbè nei miei anni di carriera nella lista dei fan numero uno ma Rafa ma sei appena arrivato cioè io ti voglio bene assolutamente anzi sono contentissima e hai molto potenziale di essere il mio fan preferito però c'è Dennis c'è Dennis edvigile supera Dennis eh voglio scrivere l'intruso ah ecco Antonella ma se l'amica dice l'offi almeno io no cielo non è mio amico siamo arci nemici stiamo entrando griffare il mondo ma cielo come ti permetti chiedi mi scusa niente mi spiace ma è la verità scusa c'è lo fanno ghost ciao ghost amici amici ci vogliamo spostare su caralmc che ne pensate bellezza va bene magari può entrare anche idea ma io faccio schifo però ma anche io faccio schifo perfetto adoro va bene dai spostiamoci su caralmc vi metto se vuoi god bridge vi metto be right back guardate che bello perfetto dai 1v1 fai l'andromeda bridge sai cos'è guarda come si si flamano l'un l'altro posso venire rega rega non è non è un potete venire dovete venire tutti quanti dai su 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 caralmc tutti quanti allora vuoi fare 1v1 nelle bedwars si si non me ne frega infipare le bedwars le mi lasciano cari drag e tolgo l'iscrizione eh malica mi dispiace andiamo su tolga l'iscrizione che ti devo dire conosco gente che gli piace soffrire a quanto pare fare 1v1 contro di me non è tanto divertente e vabbè guardate gli scherzi telefonici assolutamente si antonella anche su val mi scuso per il ritardo ma no ma agosto ma tranquillo davvero possiamo entrare ma raffa dovete entrare quella la dovete è obbligatorio le bedwars con i fan è obbligatorio è certo le bedwars con i fan vuoi vedere se non entrano i fan non ci sono i fan è brutto dai su 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 dai che se devi mettere 5 aspetto di voglio tutti e 25 vabbè non proprio però hai capito ecco 22 niente potreste ne riempiamo coral riempiamo coral mc diamo boost volete fare semplici bedwars banalissime oppure qualcosa di incredibile se siamo in un paio vediamo cosa c'è di incredibile un bel murder mystery uh murder mystery dici eh non sono molto bravo sì bellissimo no ma chat 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 preferite bedwars o murder mystery murder mystery se le facciamo su fair games non c'è nessuno quindi siamo solo noi no possiamo farlo anche su coral ma dobbiamo aspettare il maledetto l'infame ultimate che sta dominando mi ha fregato su fair games che così almeno siamo solo noi dicono di andare su murder murder mystery preferite va bene dai andiamo su la murder mystery intanto ci troviamo tutti quanti lobby su su coral se dobbiamo andare su fair games decidi ma chi ha detto fair games io non ho detto niente è perché è perché così siamo da soli non c'è va bene dai qualcuno spammi l'ip di fair games in chat live io non ricorderai meno denis faccio io va bene va bene se non c'entro più in quel server lobby andiamo in lobby anch'io da quando da quando non esiste più e appunto ma è craccato si fair games dark la ricerca non è collegato non me ne frega niente che vuol dire mi sono mi ci giocano ancora 11 persone vabbè lo riempiamo adesso si si no nel senso nelle bad ora controllo quelle delle marder mystery wait c'è solo cura i mega chi sarà mai ma dai ti ricordi quando giocavamo alle benze ah no tu non c'eri sei caduta come tu non c'eri cazzo non c'eri quando giocavamo insieme troviamoci aspetta vi metto la live nella lobby normale proprio aspetta vediamo eccoci qua hai copiato lo stile c'è il cielo papi mamma mia mamma mia c'è di schiaffo di schiaffo mamma mia che cattivo mi sto baggando dove siete no 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 sono scarsa hai vinto sono scarsa avevo un cuore però vieni mi fai male mi fai male un tempo ero abilissimo no ecco vomito no che cosa è successo dai su ti aspetta su fiar games vedete nella lobby normale ecco Dea che bella ciao piccola ciao 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 chi va là chi va là chi va là ciao Dark sei uno Steve sono tu me no vieni qua no c'è la fan mega pvp mega mega dove è la b1 la b1 ciao Dark ciao 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 aspettiamo tutti quanti guarda quelli del mio canale vengono qua vengono qua vengono qua oh c'è Dark Lenisfar ma sono bloccato si lo so succede anche a me la si picchiano che server Dea vieni qua Dea vieni qua vieni qua andiamoci qua no mega è troppo duro dietro ma no sei insomma guardami no non ti provare mega non ti provare ora come si ritivano non lo posso andare dai su su tutti quanti fiar games certo certo ma mi blocco aspettiamo tutti quanti ragazzi aspettiamo tutti quanti appena siamo un bel numero partiamo basta troppo violenza saluto ogni persona che ha la live ti lemi ora vi saluto a tutti quanti Ghost Warzone ok saluto a lei che è entrato che è entrato ho sentito qualcuno sai che è tu no era mega che aveva una voce estremamente bassa sto entrando io da me amici non vi preoccupate vi aspettiamo tutti quanti ma tu state io non vi vedo domanda per la cassa perché se c'è la spada non vedi ciao Dark ciao 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 mamma mia devi levare la spada non c'è senso ma con la spada non puoi vedere volevo un pirla non so come aiutarti Alex perché che è successo non riesce ad entrare su fiar games ho detto non è che è premium su server no non è mio premium no perché è entrato con 3 account oh boy il massimo Alex poi ti insegnerò come si resetta l'ip è facile basta spegnere il router e riaccenderlo no no io non posso entrare dice Malika perché non puoi entrare l'ip di sistema perché non ha minecraft esistenti i launcher perché i server minecraft prendono sia l'ip del modem che l'ip tuo del pc ma questa l'opera io non ho già visto l'avranno presa a qualche parte come al solito no 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 o forse l'hai vista quando hai giocato su fiamma no era nel server di Mastro ahhh ahhh magari sarà Mastro che ha fatto un coppia in colla Mastro c'è della vita stavolta adesso adesso andiamo a chiamare Mastro fai la prova come state amici riuscite ad entrare a comunque a volte si sente che fai io sì davvero sì forse c'è il microfono troppo vicino ah che sputo scusate può essere cosa fai no no oh siete che vuole faiitare qua allora qua abbiamo tante opzioni murder mystery zero giocatori speed builder 10 build battle zero sì sì tra qui vi aspetto basta che mi confermate che venite così non vi aspetti inutilmente chi è quello Raffa no vabbè bellissimo Raffa dimmi Dark ciao Raffa che succede ma è bellissimo quello che mi piace per il meno si fa la cassa no c'è un simbolo illegale sulla schiena no come no 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 mi fa bannare e allora aspetta Raffa non lo invitiamo nel party fino a che non si cambia la schiena mi dispiace però sei illegale togli quella roba dal tuo sedere ok è vincito però è stato simpatico per fortuna che non l'ho visto c'è un simbolo che piace molto a Belen insomma ah è Belen Belen è qui cosa? Sucra sono emozionata no Sucra falle te oh oh perché sei emozionata? c'è Dudino ciao Dudino fai parte del team non penso appena entra qualcuno di nuovo andiamo tutti quanti lì circondiamo comunque comunque amici 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 della chat essendo che non abbiamo un nome per il mio fandom aiutatemi a trovarne uno perché inizialmente io vi chiamavo le uniche persone che ci guardano no? però forse è un po' lungo no ma ho passato ciao Franci vieni su ladies and gentlemen visto che sei Leamington ah ok ci può essere sì dai andatevi a trovare un uomo per voi voi del fandom siete il fandom quindi mi aiutate i lemini eh no forse no i limoni di lemi i limoni i lemini i lemini potreste essere i miei limoni i miei limetti i miei limetti non lo so le limette no no d'orca se ne andava da non riesco a parlare deve andare sì Rafa ti aspetta che cambia la schiena te la sei cambiata? no chi è questo? non lo so vabbè no un mini patatine ma le patate non c'entrò niente con me ma sei tipo Bedworth eh se entri Alexio si fa vieni vieni l'anaglia su Coral c'è sempre Ultimate che monopolizza i minigame un tempo quando giocavo seriamente c'era sempre lui va bene spostiamoci su Coral spostiamoci su Coral che altrimenti è quello che l'ho incontrato al Games Week pensavo che era più alto i Marder Mystery erano più belle e così passa aspetta aspetta che abbiamo un problema devo fare vado a vedere se il dominatore di Coral non mi faccio vedere il password magari ecco oh ok posso prendere il dominio ok posso prendere il dominio ho preso il dominio di Coral MC non ce l'ho io ma su dove sei entrato tu Coral MC allora voi dovete stare attenti in chat apparirà un link quando siete pronti me lo dite c'è cura in mega qui guarda che bello aspetta lo state andando in che modalità state? siamo in Marder Mystery volete fare? siamo in Lobby 3 ah Lobby 7 c'è sposta siamo in Lobby 3 Coral MC allora se volete fare gnocco dobi mamma mia è entrato ieri a dirmi no 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 qua c'è il così è entrato ieri a dirmi ah cosa giochi a palle world ah raga mi interesserebbe una live di palle world palle world io lo chiamo palle world perché fa ridere però qual è l'ip lo vedete qua a destra play.com non riesco a parlare play.corelmc.it play.com quindi Marder Mystery Marder Mystery o Bedwars sì basta che sia su Coral MC eccolo mio figlio Alexio che bello che sei amore dell'amore allora potete cliccare il link in chat per entrare tranquilli lo posso rimandare quante volte mi pare mamma mia amin ecco questa è la nostra Lobby privatissima dove però entrano tutti quanti io ci sono non è proprio privatissima eccoci qua invitami grazie ve lo rimando però se lo mando troppe volte mi sa che mi bannano ok no l'ho fatto sono già entrata ok i lemini eh vabbè ma forse è un po' troppo concentrato su di me cioè i limoni i limoncelli i limetti i limoncelli i limoncelli le limette potreste essere volete essere delle limette i sorbetti al lime i verbi c'è Daniel che è il tuo fan ti chiede ma c'è l'altro fratello c'è il mio fratello c'è l'ex TGF ma c'è il mio fratello tutti fan di di cielo fan è certo ho un fan c'è Coco c'è Coco c'è Coco c'è Coco è Coco è Coco è Coco è vero ma ditegli di venire su Discord che lo spostiamo questo qua è il fratello di Infi letteralmente è mio figlio anche lui ciao piccolo ma che ci fai qua chi è lui chi è lui chi è lui fratello Infi eh sì ed è mio figlio tuo figlio nostro figlio sì vabbè mamma mia che rompi palle che sei noi hanno tutti lo screen con cielo fan no in realtà non mi conoscono neanche lontanamente vedono che c'è youtuber vabbè Lemmy tra poco te lo fai mettere anche tu io ho detto che sei in live entrate entrate su su Minecraft l'ip è play.coralmc.it lo vedete qua a destra è una murder misterata penso di sì mi ha buttato fuori come te lo spiego Raffa è facile vai su Minecraft devo rispammare no no ci sono ci sono ok ah come fai a entrare qua da noi eh sì adesso ti allora dovete entrare su Corelmc e apparirà in giallo un coso cliccabile in chat ecco ascoltate c'è fra 5 e 4 adesso adesso ok cliccate a sinistro e dentro join event ci sarebbe la kappa sono io la kappa dai esatto sposta Coco Coco vediamo siete pronti per sentire Coco in live Cocchito chi è Coco ciao Coco è mio figlio è mio figlio anche Marco c'è che Marchino Marco c'è che Marchino c'è che Marchino ma siamo tutti i fratelli riluniti la famiglia per dirti eravamo io e Marche abbiamo visto la mia abbiamo detto perché non entrare c'è Marche c'è Marche anche in vocale i miei bambini i miei bambini dite anche a Marche di entrare in vocale così dai si si unisce ah ciao Raffa benvenuto è sotto ragazzi siamo forse un po' in troppi che non conosciamo che non siamo nel ah l'altro mio figlio ragazzi siamo la famiglia riunita sono i miei tre figli siete pronti posso far partire sono i miei tre figli maschi nostri mamma mia vai fai startare fai startare guarda il mio figlio cocco non fate i stream snipers ok si si fate i bravi fatti i bravi non guardate non guardate l'emiscrinn dopo dopo che adesso sto un attimino consigliere benvenuti in murder mystery poi si fanno gli screen con tutti quanti ok murder mystery perfetto dopo ci mettiamo in posizione allora allora che mi racconti idea sei innocente sei sicura di essere innocente e qua c'è il suss sono vedi aiutare ti targhetta aiuto aiuto uccidere self cosa ma il cull down per uccidere è che fatto così coral mi sa ti sei fatto sgamare in cordi no mia niente è ovvio sennò ti metti a disintegrare tutti quanti non va bene è triste così ecco di che funziona raffa sono moruta hai visto che sei vicino al mio cadavere come ti senti tradito le mispecta mi si ama si è schiattata si infami dovete ammazzare subito io devo capire chi è la città subito la capa perché poi piange la capa guardo guardo raffa che voleva essere guardato mamma mia che belle chiappette che c'è che guarda bellissimo mia una roba assurda basta mi sposto la raffa mi senti patico si un po ora siamo in troppi bisognava prima eravamo in 30 il tempo chi va levati ma non posso levarlo dillo feriz ecco lì amore della mamma guarda mi sono io quello cosa fai no sporcaccione sporcaccione non eri non eri dell'altra sponda mamma mia che schifo una roba assurda vado a cambio cambio cambia no è morto il mio cucchino morto il mio cucchino continuo lo schiettare io sono molto davanti a te la prima che è un povero non c'è niente è morto va bene come è morto eccolo senti quale 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 dove dove mi stai seguendo cosa succede voglio vedere senti ti do una pagina mi ammazzò mi ammazzò qui sono moruto moruto caduto nell'imposto ma ma venga è morto ma venga l'imposto che è morto no sono due a 2 sono svariati a quanto fa già piero ma com'è un gioco il mar dello mistero vicino a me fix mi dispiace vabbè diventiamo amici che l'obbicino un bicello stiamo giocando le mar del mister non puoi fare le stragi e ma lo so ma non sono la uner di con le bici e sì ma ci dovrebbe essere il modo per togliere il tempo kill ma c'è gesù rega posso aumentare lo spawn dell'oro c'è messia guardatelo che bello io è il messia è tornato è tornato solo per giocare con noi alle verdere mister fantastico e me ti chiedono sei guardato naruto mega io l'ho visto naruto mamma mia la lemiozza no vabbè jackson e ciao jackson e cosa fai tradisci smittola vieni qua no poveros ma il principale si pulisano su oshi oshi non c'è più ghost poi ti riguarda poi ti riguarderai la live vedrai tutti quanti gli scandali che sono avvenuti e anche erano erano due erano in tre uno ha fatto undici kill fortissimo fortissimo quello gg prima o poi sicuro che è fatto raga io vado un attimo e rimarrò nella chat perché mi stanno chiamando tanto tranquilla ti darò tutti i bacini del mondo dopo un momento come si fa senza di lei ciao 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 devi riferire la live la lobby ce lo fanno sì sì mi saprei stare un secondino che corra a tessi tempi ho capito malica server in aggiornamento ma vieni mastro ma certo ok allora abbiamo varie opzioni nascondino murder mystery lava rise ci si mena in questa ci si mena di nuovo ben tornato siamo tutti quanti su coral mc a fare dei mini games su morti neti tag spliff sumo 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 su palloso questo dura tanto sumo 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 venite in lobby 1 che qua c'è ragione che vola farsi lo screen vola farsi lo screen quindi mi metto mi metto qua chiunque se voglia fare lo screens venga a farsi lo screens mamma mia guarda che bello marchino mamma mia guardate per lo marchino mio figlio quanto è bello il mio papiro si noi proprio screen la famiglia se non c'è solo che devo tenere il posto bellissimo se facciamo il posto con la sposta di qualcosa si si è ragione facciamo la cosina bella come come il matrimonio più grande a cavolo non c'è più no però per responsabilità ok domanda chi è che ha fatto ma che ne so io no nessuno vieni raffa vieni a farti lo screen io 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 vieni a farti lo screen raffa vai guarda lì bellissima si vanno a mi penetrare perfetto vedi guarda lì no sumo no comunque non riesco a comprare sumo da per me bello 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 ma che non sbagliata io sicuro come funziona sicuro 100 100 su vi spiego come funziona allora è l'1v1 esatto è un 1v1 è addirittura è fatto raffa quanto ci metti vabbè se l'emino si esprime facciamo questo cosa fate quello che vuole io vi seguo ok schiacciate il pulsante giallo entriamo tutti da cielo entriamo tutti da cielo bellissima è la madonna quante persone no vabbè c'è Kendall l'originale ragazzi l'originale bellissimo ocello invitalo invitalo dal terra invita Kendall dal suo al terra vieni su al terra adesso lo so bella ciao franci ciao marchino è il mio papino è il mio papino quanto sei bello è bellissima è il mio papino ragazzi questo va bene abbiamo giocato a Lego Fortnite per fortuna no ragazzi no per cose è bellino per i primi dieci minuti esatto dai so facciamoci ancora due game insomma e poi chiudiamo la live che sono già le 9 io devo editare tutto quanto la serie si subito domani sta partendo sta partendo è partito yeee ciao belli ciao 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 bellissimi dove ero urtino aspettate ho copiato l'evento ultimate ma cioè sono eventi pubblici possiamo farli tutti non è che sono di ultimate bellissimo ok a differenza di quello che dice io so scarso qui posso provare del mio meglio però chi è chi è dark chi è dark del chilling non conosco mamma mia guarda guarda il chilling vai fatti valere vai fortissimo oh si sta facendo oh oh no vai vai infi contro foca faccio schifo faccio schifo faccio schifo faccio schifo non devi saltare è l'unica cosa che so poi per il resto faccio eh io c'è un muro qua ok bravissimo vai infi infi dai faccela per mamma sei bellissimo di più eh no vai infi faccela per mamma no 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 vai 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 mamma mia mamma mia mamma mia ti picchio ti picchio ti picchio dai ti faccio vincere ah va bene apprezzo apprezzo ok va bene si bravissima divano così non arrivi ultima insomma grazie 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 fumo problemi mamma mia arrabbiatissimo vai marchino vai marchino do fastidio do fastidio ce l'ho a rompere le palle vai sono indecisa adesso sii marco marco arrabbiatissimo ok vai coco tocca a te vai vai sei carico vai uomo vai uomo vai coco vai è mfk ok sei pronto sei pronto vai 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 mega vai mega picchialo ti aiuto anche se in realtà non posso fai finta che lo sto picchiando fai finta vai mega fortissimi vai mega commentate io c'ho la scuola commentate vai mega vai mega vai troppi la macchina le palle ce l'ho prima di perderla combo chi ha perso che ha perso alexio vai alexio vai 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 alex vai alex vai alex vai alex vai alex vai alex sii bravissimo le alex aru mamma mia vai aru comunque sono un unico figlio che non ce l'ha fatta mi insultano giustamente marco marco beccato quello che si è svegliato più tardi no 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 anche se non ti devi anche ora farà fk è una roba assurda black rl non mi credo pensano che io sia vieni qua vieni qua vieni qua ok dai fai fai it's alfa x tom ma che sono tutte queste persone amiche che conosco io non le conosco mica sono amici tuoi cielo tuoi fans no sono persone random che stavano online non ho visto chi è quello eh non so per chi fare tipo non le conosco vi faccio moon perché l'altro non riesco a leggere vai moon fortissimo mamma mia oh ahio giorgia giorgia è quello che ha sconfitto mega eh no allora non gli voglio bere siamo alle semifinali credo guarda quella no guarda quella una roba assurda allora mark dove sei mark questi sono pochettissimi ciao rafa vai alexio vai alexio mamma mia furchissimo tu devi vincere vai alexi tanto bevo anch'io ragazzi che sto malando di sera ho capito ho capito si hai capito si inizia con l'emme inizia con l'emme o no non sono pronta cosa cosa aspetta dai 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 vai 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 eh vabbè non ce lo fai no aspetta dai però sei arrivata non ultima va beh dai ma come funziona io non so come che faccia vai sì è quella è arrabbiatissima arrabbiatissima hai capito ciao rafa ciao ciao vai marchino marchino no 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 è bravissimo non ti riesco vai fumo contro tommy sono rimasti solo in sei la cosa brutta è che sono nella versione sbagliata e vabbè o vai vai tipo per foca vai foca mamma mia vai foca vai foca vai foca vai foca faccio il tipo per te solo perché foca monaca dai mamma mia bravissimo ha vinto è quella lì ha battuto a me però non so se farei tipo è mai stata brava ci servi ci servi vai nix vai 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 sapete che ti fa cosa fa cosa fa la prossima live chiamiamo white perché è un esperto di pvp va bene va bene sfonda tutti ma mica di oscili quella ma lo stanno parlando fortissimo no si ma non è il suo problema fumo problemi foca vai foca vai foca fkk picchia 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 approfitta no ma stanno ma stanno facendo l'amore no amicizia facciamo screen prima è un youtuber foca non lo conosco non penso proprio andiamo a seguirlo non so niente di più andate tutti quanti a seguire foca su youtube non so se ma lei devi cambiare il nome no non sto capendo ma lo so io non ho idea ma il mio cane si chiama lei mi basta cosa stai dicendo ma dove l'hai letto le mie oscissimato ma è la finale e io non sto capendo niente è rimasto un po' indietro lui mamma mia foca 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 fortissimo foca fortissimo foca fortissimo mamma mia è un figo un figo dj per foca dj per foca ragazzi l'ultimo giro è il catone il pantalone no il teore è finito da farlo da farlo un altro giro da farlo un altro giro quel server si spegnerà a me è crashato crash ancora le matchy quando finisco gli eventi ultimo giro ultimo giro dimmi vai 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 questo volete di fare ultimo giro sumo e poi oggi sono su un tetto bellissimo e poi basta poi finiamo la live siamo su carrile mc e tra poco uscirà il come si dice uscirà un avviso in chat da parte di proprio minecraft adesso mi dispiace flavio adesso entriamo tutti mamma mia eccoci qua mamma mia bellissimo 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 sto facendo guardando la persona sumo pvp no c'è cicotobi mamma mia un figo cicotobi c'è cicotobi c'è cicotobi c'è cicotobi c'è cicotobi c'è cicotobi no ma guarda che ti spammo a te ehi dai cerca cerca levi su youtube levi su youtube se in live si se si dove no esatto non dillo troppo i poteri forti ci fanno male davvero a volte succede è un po' random però tipo io per un anno spammavo ogni singolo evento che facevo aspetta che mi hanno sfidato a parlare in corsico per 5 minuti mi hanno sfidato esatto allora tu pensi che io non ce la faccia no no ti prego no no ti prego dai no dai andiamo caspio andiamo figa no no fanno la gola sta partendo aspetta 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 i po e ho rimandato il link ho rimandato il link avete 5 secondi perciò ciao amore benvenuto in live cos'è questo anche il games ragazzi no no è su è su è su levi please cosa cosa è successo denis non ho letto ciao amore comunque vai mark stai facendo vai marchino vai marchino non ci riesco sono una versione sbagliata guarda chi c'è ciao chi c'è chi c'è occhi rosa quell'infamio che ho invitato su al terra e non mi ha risposto proprio lui ma come chi occhi rosa è un youtuberino non conosco occhi rosa no vabbè forse lo conosco forse lo conosco fa più che altro pvp è bravino io l'ho invitato a colori forte è arrivato secondo vai coquito coquito mi ha preferito vai coco eh niente siamo tutti scarsi no ragazzi siamo tutti scarsi piango c'è l'ofi per aspettare il nostro turno ce lo metti un bel par non sono admin screen a fare gli screens vai alexio vai alexio vai alexio vai alexio vai alexio fatti fatti manere vai vai grazie vai foca 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 vai foca dimostra che sei uomo mamma mia foca eh no mega mamma mia con il tuo ercole vai mega vai mega questo ce la vai questo ce la vai dai mega ercole è scarso oh fortissimo fortissimo mega fortissimo fortissimo oh ancora niente che devo fare essere serio o no vuoi dare avanti facciamo lo screen dai vieni qua facciamo lo screen è destino ok e poi vediamo chi vai no stavo scrivendo no infame sono cattiva guardate non farò mai più lo screen con te no fiducia ha perso no scusa ma l'avessimo ha perso non mi ricordo non l'ho vista è stato infamato mi metterò a piangere no cico toby tippami nella ma non so non sono admin neanche posso scrivere in maiuscolo che poi te lo ordina proprio tippami nella qui e dammi il coso io detesto il personaggio no Alex no Alex no 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 porto Alex vai piccolino vieni qua amore della mamma scontrofattitani scontrofattitani sei bravissimo comunque tutto guardali guarda no sono scarsa lei mi dimostra che sei lei mi è scarsa dai puoi configgero un walk non devi saltare eh vabbè troppo oh c'è il primo eh ci ho chieduto troppo madonna che schiava no c'è Giacomino ciao Giacomino vai mega caricati vendicami mega vendicami che mer saluta saluta Giacomino Giacomino Gamer Giacomino Gamer proprio lui vai mega come va no stai diventando top family friendly sul serio stai diventando family friendly io oh mi scusa lo faccio per essere no è davvero vai selfie aiuta non è una cosa negativa dipende dove c'è la negativa sei campano no no sei campano più o meno quando fare la prossima live ragazzi ogni mercoledì dalle 19 e un quarto c'è la live vai foca vai foca mamma mia foca è top potente no ora no è peccato ma quello lì mi sta tipatico ci serbi dai servi dai servi dai servi vai uva vai uva vai uva bella uva dai adesso adesso finiamo la live ci troviamo tutti quanti in un punto e facciamo l'outro tutti insieme va bene facciamo la foto di colpo vai calabrone foto racconti vai calabrone amore viene anche tu su cola coa ora l'omc ora l'omc ora l'omc ragazzi sapete che il founder di cola l'omc è molto toscano feriz è proprio di buca della città dove sono nato io no ma è vicinissimo a me no poi adesso con i suoi soldi si è trasferito chiedo stia a londra boh non mi ricordo ah ok perché è scappato con i soldi vieni amore apri minecraft versione che vuoi tu fai 1.16.5 l'ip è in basso a destra play.carolebc.it quanto è combattuto qua ciao handworld sei arrivato in ritardo adesso finiamo la live purtroppo eh no oh mia vabbè visto che nessuno di voi è più qua posso dare fastidio bellissimo vai dai fastidio ce l'ho bravissimo eh ma no però è sì handworld cosa adesso mi devi chiedere scusa cioè io io ti aspettavo basta un miss basta un miss vieni aspetta vieni in vocale amore vieni in vocale basta basta che fai perdere un colpo c'è l'ho fi e uno viene sparato in giamaica godo godo ah dai si scherza un evento goliardico si spegnerà sto coso adesso non è dentro un calderone dai ok eccoci venite in lobby 3 ci mettiamo esattamente lì e facciamo l'outro tutti quanti insieme venite in lobby 3 lobby 3 attenzione c'è spegiulia proprio lui proprio lei proprio lox sono crashato ti aspetto reclutiamo spegiulia immagina crashare mettiamoci qua dai facciamo tutti quanti l'outro insieme belli tu 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 faccio l'outro con voi di cannesi mentre mangio che parla eccovi faccio così tanto schifo no piccolo ricordate se aperlo ma facciamo tutti no dimmi dimmi tutto pass bridge andrò a metabridge che hai detto massimo ciao vabbè quanti sono io ho chiesto a frate di venire su su discord non sta venendo si stavo sentendo stavo vedendo ma adesso mi metto a piangere ma cosa fate perché state costruendo come fate con i blocchi bellissima ma non mi fa piassare devi stare lontano dalla strada principale l'obb3 che facciamo l'outro venite tutti quanti qua dietro di me allora 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 bellezze che dire questa live è stata leggermente più noiosa ecco delle altre è stata rilassata è stata più nel chill si è stata più rilassante insomma abbiamo parlato fra di noi cioè la negola non è per niente rilassata però avete capito insomma la cosa spero che vi siete divertiti comunque a parlare con noi tutti quanti tra noi amichetti grazie di essere stati con me mega dea infi e bassi ha detto il chill amore ma io ti ho chiesto di venire su discord perché non sei ancora venuto ciao a tutti no aspetta fatemelo insultare un attimo flare ti svegli insultato pubblicamente flare pubblicamente ti dott due secondi cinque uno due cinque uno tre cinque uno tre sette quattro quattro e mezzo vuoi cambiare versione vieni su discord fredda vieni su discord boh sono signora lo lascio chat cosa faccio lo lascio a 50 like lo lascia a 50 mega mio padre cazzo si raffa si raffa si raffa si dice di lasciarlo a 1500 iscritti lascio flare eccolo ecco lo flare svegliati spesa sempre gli iscritti che salgono a 1500 ho appena ho sentito a 1500 iscritti fai che cosa donna salutate flare dai more saluta salve 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 tornando alla violenza domestica lei mi potrebbe sempre lasciarti ma io starò sempre con te ecco lo senti dai su grazie mille di essere stati con noi mi sono scusate mi sono scottata con la stufetta e niente dai ci vediamo per la prossima live ricordatevi ogni mercoledì ci sta la live ogni lunedì esce un video randomico insomma ogni giovedì esce la serie sgp e ogni sabato esce al terra mi raccomando non dimenticate questi giornali per di più sul mio instagram ci sta una storia il mio instagram lo trovate qua nella descrizione della live dove potrete mettere dovete poter non riesco a parlare dove potrete fare tutte quante le domande che volete alla quale risponderemo per lo speciale delle mille iscritte grazie mille di essere stati con noi ciao a tutti quanti salutate amici dai saluta ciao ciao a tutti salutate tutti quanti salutate tutti quanti bellissimi bellissimi grazie mille grazie mille ciao bellissimi ciao